Barella, Darmian, Darmian al centro, il colpo di testa, la respinta, ancora Cialanoglu al limite dell'aria che però non prende il pallone. Ancora Inter con Acerbi che recupera palla, pensate, il centrale di difesa sulla tre quarti. In questo momento Inter tutta in avanti con Di Marco a sinistra che la dà Cialanoglu, siamo quasi vicino all'aria di rigore, un po' più fuori. La dà a destra per Darmian, Darmian prova il cross, buono su Turam anticipato. Ancora Inter dall'altra parte, Bastoni che crossa sul secondo palo, c'è Barella che lascia scorrere. Ancora Darmian, Darmian che può crossare, la mette in mezzo per Di Marco anticipato. È un assedio, è un assedio, un assedio. Fallone per Vlaovic, sbagliare il passaggio per Bastoni. Occhio alla Juventus che è un break per andare sulla destra, 22 di gioco, McKennie sulla torre del campo di calcio. Può tornare indietro e non serve nessuno, lo fa adesso sbagliando il passaggio per Vlaovic. C'è Mighittarian che la prende, si lamenta tantissimo, infatti Vlaovic con il suo compagno di squadra. Poi è bravo Rabiot a disturbare l'azione di Barella, a mettere in rimessa laterale. Chiede calma Rabiot al compagno di squadra e gli dice stai calmo perché eravamo messi bene, eravamo in una superiorità numerica. McKennie ha aspettato troppo l'inizio e poi ha sbagliato il passaggio finale. La cosa strana è che qualsiasi squadra messa nell'aria di rigore va in sofferenza. La Juventus va nel suo habitat naturale e mantiene la calma anche in aria di rigore. Perché non è che hanno concesso, attenzione, però c'è un pallo a centrocampo, punizione per l'Inter sull'Autaro che è dolorante adesso a terra. Forse un colpo alle spalle o al piano, anche io voglio rivederlo meglio. Una ginocchiata sul gluteo. Sì, dietro. Doloroso ma insomma né violento, ne credo dalle particolari conseguenze per l'Autaro Martinez. E' uno sport di contatto, questo è un contatto normale. Esattamente come quello su Costici poco fa e non fischiato a Guardalini. Quando si dice la vecchia. Uguale. Uguale. No, no, quella era una spinta, questa qua è un colpo. Sempre fallo era. Due falli molto simili, uno fischiato l'altro fa. Si sta cercando di non essere troppo fiscale, mi pare di capire che cerchi di lasciar correre, chiaramente, là dove si può. Inter ancora vicino all'aria di rigore, scambia Pavagon, Darmian che sbaglia il controllo. Locatelli bravissimo per recuperare il pallone perché Darmian sbaglia il controllo. Allarga sulla sinistra per Rabiot. Si deve fermare, sterzare, tornare indietro. Fallo di Marella da dietro qua, giallo. Giallo da dietro. Ma come giallo? Niente. Non fa essere giallo. Non fa essere giallo, guarda come fa essere giallo. Ma dai. Guarda. Guarda come fa essere giallo. Ma non è neccativo. Scarpatta dietro con la parla lontana. Non è neccativo. Scarpatta dietro con la parla lontana, questo è giallo. Ma non c'è. Questo è giallo a casa mia. Ma no, non è giallo. Come fa essere giallo, questo è giallo a casa mia. Non è giallo. No, io lo diamo. Niente. Posizione Juventus. 24 di gioco. Danilo riparte da Locatelli che aiuta moltissimo in fase difensiva. 24 di gioco. Berheimer può lanciare lungo. Lo fa per Vlaovic che controlla bene. Allarga sulla destra per McKennie che sembra essersi parzialmente ripreso dalla botta di prima di Di Marco. Anche quello per me era un cartellino. Era al limite del giallo. Il Diz, torna indietro e aiuta la squadra. Danilo, giro palla sulla sinistra. Locatelli, da play bassissimo. Il Diz, guarda dove gioca qua, quasi da mezz'ala. Rabiot, tre quarti campo di sinistra. Ancora Danilo. Il Diz di nuovo, può puntare Mkhitaryan. Sbaglia perché Vlaovic si gira un po' dal passaggio. Esce a Cerbi molto bene in anticipo. Scambia con Lautaro, un po' troppo arretrato per Barella. Ora però c'è la Noglu. Prova la sventagliata per Di Marco. L'ho visto molto bene. Di Marco in aria di rigore. Il cross per Turam. Turam. Bremer! Questo vale un gol! L'intervento di Bremer vale un gol! Ha fatto una cosa pazzesca, rischiando tantissimo. Perché se non prende la palla, tira giù Turam e di rigore. Occhio aiuto che può ripartire con Rabiot. Cosa ha fatto Bremer? Una roba gigantesca poco fa. Ha tolto il pallone del Pina Turam, che era da solo davanti al pallone. Davanti al portiere per calciare. È arrivato in disperata modo. Ha provato a fermare l'azione. Adesso Cozzi sulla sinistra. 25 di gioco. Su Darmian. Torna indietro il servo. Palleggia. Hildiz. Mamma cosa ha salvato Bremer poco fa. Questo gli vale un 8 nel primo tempo a prescindere da cosa succederà. A meno che non faccia disastri. Locatelli. Allarga sulla destra per McKennie. Temporeggia. Rabiot. Adesso spostato da mezz'ala a destra. Prova di imbuccare per Cambiaso. Ancora Locatelli. Tre quarti di campo Juve. Bremer. Turam forse l'ha anche toccata. Però siccome Bremer gliel'aveva sporcata. Poi lo rivediamo sicuramente. Ci faranno vedere un replay per capire meglio. Ancora McKennie. Giro palla veloce della Juve. Con Locatelli che prova da rivicinare l'area di rigore. Deve tornare indietro a sterzare e ripartire dalla destra. Ancora su McKennie. Che non può metterla in mezzo. Non lo fa. Cambia ancora con Locatelli. Scarica di nuovo sulla destra Locatelli a sua volta. Sempre lì siamo. In un triangolo di campo dalla quale non riusciamo a uscire. Locatelli torna indietro da Bremer. Che allarga sulla sinistra per Danilo. Ha risultato come un pazzo. Perché quello vale veramente un gol. Quello che ha fatto Bremer poco fa. Un gol. Vale veramente un gol. Siamo 0-0. E grazie a Bremer che salva tutto su quel pallone. C'è la Noglu. Bisogna dire una cosa. È stata straordinaria la giocata di Mkhitaryan per Di Marco. È stata una roba di una bellezza che è rosa. C'è la Noglu per Di Marco. È stata monumentale. Poi dall'altra parte Bremer fa un'altra cosa strepitosa. Due cose bellissime nella stessa azione. Però anche Di Marco. Perché Di Marco va sempre nello spazio. Gliela ha messa un po' corto. Sì lo so però. Se gliela metteva meglio non si arriva. È un tracciante da 50 metri. Il movimento non il cross. Il movimento. Occhio Mkhitaryan che recupera il pallone. C'è un tacco no? Non si capiscono Costice e Mkhitaryan. Era messa bene la Juve qua sulla sinistra. Anche perché l'Inter adesso viene pressata. Perde palla di mano alla prova a metà campo. Perché sono in quattro su Darmiane e Barella che non tengono il pallone. Locatelli. Adesso la Juve nella metà campo dell'Inter con più continuità. Hildiz. Sempre molto basso. Qua è un trequartista. Guarda che Mkhitaryan non sta bene. Locatelli. Mkhitaryan non sta bene. Guardalo. Guardalo. Eh no non corre bene. Però tiene. Però adesso tiene. Bremer. Vero è che secondo me Allegri prima ti rinunciarono come Mkhitaryan. Adesso soprattutto. Ancora Bremer. Salva il passato di TAC. Vlaus per Hildiz. Ancora il brasiliano. Ancora una volta. A giganteggiare in difesa. Prova a partire Mkhitaryan. Ce n'ha due addosso. Ne salta due. C'è spazio per la Juve. Siamo tre contro due. Weston ha limite nell'area. Dentro per Vlaus. Toppa. Sbaglia il primo controllo. Dusan. Dusan. No questo. No questo Dusan. La Juventus stava per passare in vantaggio con un'azione clamorosa di McKennie. Ci si trova in tre della Juventus contro due della Juve in area di rigore. Il passaggio per Vlaus è perfetto. Senonché Vlaus sbaglia in modo gigantesco il primo controllo. La palla gli si allunga troppo. Poi arriva in chiusura Pavard. Ha chiuso la caccia d'angolo. Le mani di Vlaus sono davanti al viso perché è disperato. Perché è disperato e perché si è reso conto di quello che ha sprecato. Poteva non stopparla. Poteva calciare subito uno così come lui. Palle del genere in un Inter-Juve. Sono pesantissime da fallire. Pallone dentro. La palla rimane lì. Mette fuori Pavard. Luvia per Di Marco. Di Marco. Duram Inter che prova a ripartire. Duram subito. E questa è azione promettente. Giallo Danilo. E questa è azione promettente. Giallo Danilo. Ma no. Ma come no? Non è azione promettente Ezio. Danilo diffidato salta il prossimo turno. Stavano ripartendo in due. Non ho preso lui ma ho preso il pallone. Adesso rivediamo. Vedere Danilo protestare così conferma la mia idea. Voglio vedere. Prende la palla. E no. E dopo lo prende. Ma no l'ha presa. Non l'ha presa. Sì l'ha presa. Ma dopo prende anche l'uomo. È di azione promettente. Giallo Netto. Va bene. Eh sì. Qui stiamo rivedendo McKennie molto bravo. Ma Vlaovic ce la combina. Grossa, 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 grossa. Vlaovic è troppo teso. Io continuo a inseguire. Eh sì tiziale. E uno stoppa a inseguire. Pazzesca l'occasione del Juventus al 31esimo ragazzi. Pazzesca. Ma quella di poco fa ha salvato la Bremer. L'azione nasce da McKennie che supera bastoni. Che si fa battere nel duello. Gli lascia veramente il campo con una finta. McKennie è stato molto bravo lì. E poi Vlaovic ha rovinato. Due ne ha saltati. Eh sì. Quindi sta bene. Turam è bellissimo da vedere. Giocare elegante come un cigno. Ma poi sotto porta deve dare più concretezza. Sono d'accordo con te. Non mi sembra che abbia segnato poco quest'anno. Non è Turam. Eh? Non mi sembra che abbia segnato poco. 8 gol. No no no. Ne poteva fare il doppio però. Ne poteva fare il doppio. 8 gol. Eh no è vero questa cosa Francesco. A volte in aria lui ancora non è cattivo come un numero 9. Però io credo che questa roba vi tormenterà per questa immagine di Vlaovic che cincisca e sbaglia lo stop Ezio. Ripeto. Sul suo piede. Non solo. Poteva calciare al volo come hai detto tu. Controlla male perché lì se controlla bene poi allora ce l'ha sul sinistro a 5 metri dalla linea di porta. Un'occasione gigantesca. Gigantesca. Anche perché lì se controlli bene Pavard non può fare nulla. Eh Pavard sarebbe andato in scivolata disperata però non so. Eh ma perché ha sbagliato contro lui se no non ci arriva mai. Perché lui si è allungato al pallone. No dico sarebbe andato. Attenzione all'Inter con Lautaro. Turam a limite dell'aria. Turam. Turam. Niente da fare. Danilo in scivolata. Allora che arriva va a inciampare su Turam. C'è Lautaro. Di tacco se la porta all'indietro. Percianoglu. Allarga per Darmian. Bravo. C'è un traffico pazzesco in quest'area di rigore. Allora l'interesse. Darmian prova a ritornarci. Il cross su Di Marco. Respingono. Reclamano un tocco di mano. Ancora Cambiaso. Riparte la Juve. C'è spazio per andare. Carambola doppia. Ancora il Diz. In mezzo a due. Di nuovo Cambiaso. C'è un rimparlo favorevole. Occhio a Costi sulla sinistra. Può puntare Pavard. Può sentare ancora Costi. Centra in rigore. Può calciare. Calcio d'angolo. La Juve è pericolosa ragazzi. In contropiede. In contropiede. In contropiede. Juve è pericolosa. Che ci incischia un po'. Davanti all'aria e torna indietro. Si va da Pavard. Inter che prova a trovare un varco che quasi mai c'è. Ma bisogna velocizzare lì. Andare di qualità davanti all'aria. Con Darmian. Ora a destra. Tensione a Pavard che può andare al cross. Scambia con Barella. Ancora Darmian. Barella può crossare. Lo fa. Attenzione. Il colpo di Tè. E' il gol. E' il gol. E' il gol di Duram. Sull'assist di Pavard. E' il gol. E' il gol dell'Inter. E' il gol. E' il gol. E' il gol. E' il gol di Marcouz. E' il gol. Duram. Bellissima la palla di Barella. Che scucchiaia per Pavard. Che si butta come ve l'è in fuga per la vittoria rovesciata. Ne esce un assist per Duram. Che di testa si butta tutto corpo e palla dentro la porta. Strano che non esulti. Bellissimo il gol. Bellissimo. No, la prende lui di testa. Anticipa Gatti. Assolutamente il gol di Duram. Certo. Ma Pavard ha fatto qualcosa di molto bello. Autogol di Gatti. E' autogol di Gatti forse. Come è autogol? Forse è autogol di Gatti. Per ultimo la tocca Gatti col petto. E' autogol di Gatti. E' autogol di Gatti. Che anticipa nettamente Turam e se la butta dentro. L'autogol di Gatti. Non è gol di Turam. Non è gol di Turam. Perché non risulta Marcus Turam. Perché c'è. Vediamo qui la conferma. Non la tocca proprio Turam. Sì, sì, sì. Assolutamente. Autorete di Gatti. Inter in vantaggio. Si sblocca la partita di San Siro. L'errore gigantesco di Dusan Blaovic prima. E adesso l'Inter che punisce la Juventus. C'è un check in corso da capire perché. C'è niente, non c'è niente ragazzi. C'è niente. C'è niente. C'è niente di comprendere il motivo. Non ho capito. Andiamo a prendere. L'unica cosa che mi viene in mente è un possibile tocco di braccio di Turam. No, no. No, ma non la tocca mai lui. Non la tocca mai Turam. Però. È gol ragazzi. Gol, gol, gol. Gol confermato. Stavano verificando quello che dici tu ma non c'è stato il tocco di Turam. Gol confermato dal VAR. L'Inter è in vantaggio nel derby d'Italia. Si sblocca la partita. Eccola qui la nuova classifica. Inter che con questi momentanei tre punti scappa a più quattro sulla Juventus e sale a quota 57. Inter 1, Juventus a zero. L'autorete di Federico Gatti. Due minuti, siamo di nuovo in... Sbloccato il risultato a San Siro. Inter 1, Juventus a zero. L'autorete di Federico Gatti con l'Inter che adesso spinge ancora vai Michele. Bastoni sulla sinistra ancora con Mkhitaryan e Di Marco ribattezzato il triangolo delle Bermuda. Ma non sfondano da quella parte. Però attaccano tantissimo. Inter che ovviamente non si può accontentare del gol di vantaggio. Perché la partita è ancora su un filo molto molto sottile. E abbiamo visto anche in area di rigore. Non vorrei perché dopo sembra che voglia fare il presuntuoso. Ma io nella puntata precedente, proprio sulla chiusura della trasmissione, ho detto Gatti nella prima mezz'ora farà una scopidagge. Ha fatto gol. Però non è... Nella prima corte. Francesco hai ragione. Ma non è un gol di gioco. Invezione, Lautaro anticipato. Occhio la Juve, il Ditz. Tre quarti campo. Prova a scaricare per Vlauci che rimane indietro. Vlauci ragazzi è malissimo. Proprio a Cervi con Lautaro. Lautaro per Di Marco. L'aveva visto. Mamma mia. Non arriva mai a destinazione questo pallone. Grazie a Gatti. Tiziano, risultato giusto fino a questo momento? Il vantaggio dell'Inter ci sta per quello che si è visto? O pesa tanto anche l'errore di Vlaovic? L'errore è stato determinante. Però pre... Tizio, tre quarti campo. Tiro subito la parola. Perdonami. Kostic, lato corto di sinistra. Può metterla dentro. Lo fa per Vlaovic anticipato da Bastoni. Locatelli. Chiama la palla a Meccani. viene servito adesso Cambiaso. Ha un po' di spazio per andare. In centro-destra. Ancora Juve che si distende. McKennie. Punta l'aria di rigore. Davanti lui Bastoni. Rientra sul sinistro. Può crossare un secondo palo. Lo fa adesso per Vlaovic. Salta invece Pavard. La palla recupera Turam. Che scarica per Mkhitaryan. Non c'è forse il tempo per questo contropiede. Vediamo se Maresca lo fa fare. Perché l'Inter è in superiorità. Quattro contro te. Si va da Di Marco. La Juventus però recupera con qualche uomo. C'è Di Marco ancora per Turam. Si entra in aria di rigore. Nel fare andare avanti questo contropiede. Le telecamere inquadrano Federico Gatti. Sfortunato protagonista di questo primo tempo. Al termine del quale questa è la nuova classifica. Con l'Inter che sale a quota 57. Scava un solco tra sei la Juventus di quattro punti. Inter ricordiamo che è una partita in meno. Quella contro l'Atalanta ancora da recuperare. E in questo momento è il Milan a sorridere. Se vogliamo in prospettiva a quarto posto. Perché di fatto va a mangiare tre punti secchi alla Juve. Portandosi a meno quattro dai bianconeri. Questo per quanto riguarda i primi 45 minuti. Parto dall'ospite neutrale. Cioè Tiziano in qualche modo ti sei già espresso. Il risultato è complessivamente giusto per quello che si è visto? Sì. Secondo me è giusto per la pressione che ha esercitato l'Inter in fase offensiva. Anche se ribadisco ancora una volta. Ha avuto anche la Juventus un'occasione colossale. Un controllo errato da parte di Vlaovic. Ho detto stop a inseguire come diceva un grande giornalista del passato. È vero, è vero, è vero. Per descrivere un controllo sbagliato di un giocatore sulla palla. Questi sono i risultati allora dei primi 45 minuti. Partiamo dagli up and down. Partiamo dall'Inter. Vai Michele. Up and down. Allora sugli up voglio premiare. A parte la partita difensiva che finora è stata molto buona. ma anche questo inserimento decisivo sul gol di Pavard. Che sono un po' di partite che è veramente cresciuto. Sempre pericoloso. Sta andando sempre molto vicino al gol. Adesso l'ha propiziato con l'inserimento. E quindi gli do 7,5. Perché anche dietro è stato molto preciso. In area di rigore soprattutto e di testa. Poi do un bel 7 al faro del centrocampo. che Michi Itari hanno uomo ovunque. Davvero una partita come ormai ci ha abituato. Però 35 anni non è mai scontato. Quindi 7 per il treno armeno. E poi do 6,5 anche a Cialanoglu. Che comunque a centrocampo attorno a lui gira anche la squadra. Ci sono tanti sul 6,5. Tanti giocatori positivi. Però Cialanoglu su tutti. Anche la sventagliata bellissima nell'occasione di Turam anticipato da breve. I down... Ma è difficile mettere un down. Perché è vero, Turam sì. In quell'occasione anche io ho detto che poteva fare di più. Però sta correndo tantissimo. Non posso metterli 5,5 a Turam. Perché sta veramente dando tantissimo a livello di corsa. Che motel dai a Lautaro? Ecco sì, Lautaro è un 6. Perché sta lottando per la squadra. È venuto dietro tante volte a combattere. Anche lui non è insufficiente. Sta facendo un lavoro sporco. Più da centrocampista che da attaccante. Però è dentro la partita. Non è sicuramente insufficiente. Io insufficienti per ora non li darei. Il voto più basso è 6. Non ci sono insufficienze. Va bene. Mentre invece credo che nella Juve almeno un paio di insufficienze e anche pesanti ci saranno, Francesco. No, sono quelle che determinano il risultato. In tutti i modi. Tra l'altro stavo guardando adesso sui blog vari e Vlaovic è preso di mira a tutto tondo. Partiamo dagli appi. Io metto Bremer con un 8 perché fa un salvataggio che equivale a un gol. Vero. Quindi, insomma, su quell'intervento lì scivolata per anticipare Turam è decisivo e fa qualcosa di veramente importante. Mi è piaciuto molto Luca Tellin nella fase di interdizione in mezzo al campo. Molto ordinato, 6 e mezzo. E mi è piaciuto molto McKennie che ha preso un sacco di scarpate e un sacco di calci e nonostante tutto fa un'azione che manda al bar Darmian e Mkhitaryan in quell'occasione. E se Vlaovic non fa quello stop scellerato probabilmente la Juventus va in vantaggio. Ah sì, perché l'eventuale azione del vantaggio è tutta di McKennie che fa una gran giocata. Esatto, esatto. Quindi questo è il terzo McKennie gli do per il primo tempo un 6 e mezzo anche a lui dopodiché abbiamo le notte dolenti. La prima è Gatti perché ovviamente è vero che fa un intervento importante all'inizio su Mkhitaryan ma è anche vero che lì deve tenerlo dietro non può farselo scappare quindi se fosse scappato sarebbe stato tanto peggio e poi va sul pallone è crossato all'interno in modo un po' casuale va in anticipo su Turan buttando il pallone in porta e questo è troppo importante perché non è altro che il gol del vantaggio dell'Inter l'autogol di Gatti quindi Gatti 5 però io a Vlaovic do meno perché per quanto sia un autogol importante che si decide la partita fino adesso Vlaovic sbaglia un gol che per me è un attaccante del suo calibro io non dico che tu cioè attenzione il gol lo puoi anche sbagliare puoi anche fartelo parare puoi tirarla in un modo diverso ma la porta la devi centrare dopo un controllo del genere col vantaggio che hai su quella palla perché Pavard è a 3 metri Vlaovic sbaglia un controllo che sinceramente non è una roba da serie A e io gli do 4 anche perché parte troppo nervoso credo no Ezio non puoi cioè nulla da dire hai un terzo che scende Francesco scusa io qualche leggera attenuante a Gatti gliela do perché comunque oltre quello sfortunatissimo episodio dove peraltro lui ha ragione Francesco ha sbagliato posizione però il resto la sua partita questo primo tempo l'ha fatta egregiamente si ma deve stare davanti ma quando sbagli una cosa del genere non puoi giustificarlo lui è sempre in ritardo ha ragione merita una netta insufficienza perché dicevo Rugani oggi perché Rugani è una posizione Rugani Rugani tiene sempre l'attaccante lo sente lo tocca lui no perché sa di essere fisicamente più importante però su Leao fece un partitone quest'anno a San Siro Gatti mi ricordo sì è un Leao di quest'anno però è poco attendibile ma lo tende anche in scivolata tenendolo per la magna hanno fatto molti un partitone quest'anno contro Leao ma è in ritardo sulla palla di Turan fa autogol è perché è in ritardo su due palloni su due è in ritardo anch'io quando do i voti ho capito Ezio che dice la prestazione però secondo me io quando faccio i voti è impossibile non mettere quello che succede nei gol perché i gol decidono le partite di calcio quindi sono d'accordo con te la prestazione di Gatti non era insufficiente però devi tenere conto del gol e diventa insufficiente ragazzi perdi questa partita perdi per Gatti sì sono d'accordo tu devi giudicare questa partita non giudichi il giocatore per quello che ha dato o quello che dà lo giudichi per quello che dà in questo momento ma lui si vedeva anche le facce le facce di Gatti però Francesco ha detto una cosa erano tutte un programma lo giudichi per più interventi per più interventi ma soprattutto questa partita se la perdi come dici tu non la perdi solo per Gatti la perdi anche e soprattutto per Vlaovic che non può sbagliarmi un controllo così sul suo piede l'ho già ripetuto sette volte e lo dico ancora una però ragazzi non è che ogni volta che uno va è vero che era una grande occasione però diciamo che finisse così questo Inter Juventus tu te lo ricorderai su malgrado per questa cosa ma quello che voglio dire che dall'altra parte adesso mi sono perso per un attimo mi sembra che erano nove tiri a due nel totale cioè voglio dire Bologna-Inter tu non te lo ricordi per il gol di Arnado ci sono delle partite che vivono io adesso stavo vedendo il gol anche su Pavard Danilo secondo me è avanti è quello che io ho detto subito lì è un errore di marcatura tutto quello che vogliamo guarda Danilo guarda è la terra di nessuno Danilo è il Bremer però dietro ragazzi nessuno si aspetta che Pavard rovesci lì è Locatelli guarda che Pavard rovesce ma non la tocca ma è Locatelli che se lo parla ma Pavard non la tocca più di tanto la palla guarda bene guarda guarda non la tocca proprio non la tocca proprio la fiora e la palla poi si perde l'uomo questo inganna tutti però dico se Danilo se Danilo lo segue però se Danilo lo segue secondo me la palla non passa invece Danilo dice vado su Di Marco vado su Pavard non vado nella e nella sì ma Pavard non la tocca non influisce quello lì c'è stato un gesto tecnico molto importante di chi? di giocatore che ha fatto la mezza sforbiciata che non la tocca però tu mi dici di farti parlare però anche quando parlo io un attimo non la tocca è una mia idea non darei tutta questa colpa a Gatti sinceramente perché chi la dai? lui eh? chi la dai? no nel senso lo fa lui scusa un attimo Simone che guardate bene stiamo rivedendo l'azione a destra c'è il Dizza solo guarda quanto spazio ha sul primo controllo ma soprattutto non controllarla sul primo controllo che non devi fare perché la palla di McKenna arriva all'altezza del rigore o poco più in là guarda quanto è lontano Pavard quando Vlauvi si controlla la prima volta e volendo non è neanche da stoppare sta palla è da calciare subito 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 calci e io ve l'ho detto che è impressione l'ho visto impressione Vlauvi l'ho detto dall'inizio non ho parlato della faccia è Inter questa è la testimonianza che è in bambola mentalmente secondo me in questa partita è Inter Juve mi guarda attonito sui dati avevo visto bene 9 tiri a 2 però 9 tiri a 2 in porta diventano 1 a 0 è certo possesso palla 61-39 Inter corner 4 a 2 cross 14 a 3 che fotografano bene il primo tempo c'è la pressione dell'Inter questa è stata l'Inter che ha pressato e la Juve che però io dico quello che allora Vlauvi ci sono d'accordo con voi il controllo non lo devi sbagliare lì da attaccante diciamo anche medio ti ripeto forse non lo devi neanche fare sì non lo forse non lo devi neanche fare 6 a 10 metri dalla linea di Ponte però vi sto dicendo tiri da lì devi tirare sì però sto dicendo che dall'altra parte per esempio Turam ha avuto più occasioni c'è una squadra all'attaccante se arrivi in aria tante volte una volta sbagli una volta no una volta sbagli quando te ne arriva uno e sai che è la palla della vita perché chissà se in aria arriverai mai più e beh dal resto Inter-Juve sapevi che la partita sarebbe stata questa io credo che la Juventus sapesse di avere assurdo boh quante palle gol per fare gol all'Inter stasera due, tre insomma se te ne capita se ne hai due o tre te ne sprechi uno personalmente mi sarei aspettato di più potrà sembrare un paradosso da Ildiz Ildiz è considerato che pressa la Juventus quindi ci sono spazi enormi per le ripartenze chiaro che le devi anche servire poi che devi dar palla però Ildiz è uno dei pochi giocatori che sa fare il passaggio preciso il dribbling e quant'altro nonostante la giovanissima età secondo me visto anche la situazione che ti sta dietro dando un'occhiata alla classifica in questo momento zitto zitto il tuo Milan mangia tre punti alla Juve ed è a quattro punti dal secondo posto eh con lo sconto diretto per eh sì un a zero su autogol fai pensieri di secondo posto ti stuzzica l'idea a me piace a me piace stare quei piedi per terra e non illudermi più di tanto ti faccio un esempio stasera ho visto due squadre che nella fase difensiva al di là dell'errore di Gatti sono molto solide e molto forti ecco quale può essere la differenza chi ha il reparto al repratto più forte può la storia insegna può vincere lo scudetto il Milan ha vinto uno scudetto con 35 gol segnati e 15 subiti il problema sai qual è che la Juventus quest'anno perde tempi sono cambiati però se la difesa è solida anche oggi hai una base di partenza notevolissima oltretutto l'Inter ha un attacco che segna due gol a partita la Juventus il concetto è tu quest'anno hai perso col Sassuolo ad oggi una partita si è fatto tre gol su quattro esatto oggi stai perdendo con l'Inter e per il momento si è fatto col tu bisogna anche cercare di capire perché quando la Juve va sotto spesso e volentieri fa delle robe da sola Francesco è stata molto pressata in aria non è facile essere pressata e come cosa vuol dire è una pressione è una pressione di sentire l'avversario il centrale difensivo serio fatto e finito perché oggi parlavo di Rugani perché Rugani è uno che fisicamente ti mette le mani addosso e sente sempre dove sei ma Gatti è un esterno non gioca non è un esterno sono tra difensori centrali però bisogna riconoscere che Francesco già dalla vigilia lui sta roba qui di Gatti diceva boh non mi convinca perché lo dicevo perché Gatti sta facendo un'ottima stagione ma Gatti non è all'altezza oggi rispetto a Rugani scusatemi rispetto a Rugani Gatti oggi non può fare campo però provo a fare un avvocato del diavolo ma è il titolare è il titolare Gatti è un errore è un errore ha fatto dei gol decisivi ma è un errore è perché Rugani che fa Rugani fa e soprattutto metti un vero scusate guarda che la media di voti di Rugani quando gioca ma non d'accordo che quest'anno l'ha sostituito bene e ti dico di più Danilo Danilo gioca terzino destro molto meglio che si ma quello è sicuro ma Rugani con l'Inter che segna 40-50 gol in una stagione ti fai gol tu perché tu mi devi dire perché nella tua squadra tra Barella c'è la Noglu Mkhitaryan e Fratesi giocano i primi tre e non gioca il quarto perché sono più forti ad oggi ma secondo me la difesa più forte della Juve è Gatti Bremer Danilo la difesa più forte è Gatti Bremer Danilo come no come è Danilo è un parere che ci sta non in questa partita non contro l'Inter ha sottolineato lui contro la squadra che ha il miglior attacco ragazzi Rugani è andato in prestito tanti anni se era fuoriclasse che fa la differenza perché l'hanno mandato in giro per tutta Italia Rugani è andato in prestito da altre parti è tornato è tornato ho capito ma dicono la Juve ha preso Biagogiano se gioca non sbaglia niente quest'anno sta giocando non sbaglia niente per me ad oggi Rugani non può stare in banchino di scapito di gatti contro l'Inter questo è il mio ragionamento poi con la serenità l'allenatore non capisce un cavolo non l'avete capito non ho detto questo non ha messo Rugani ma ha messo Gatti non capisce niente per esempio Massimo Barambac non capisce niente chissà perché ha messo Gatti e non Rugani chissà perché e sì che non è uno sprovveduto che è arrivato l'altro giorno io sto non me ne frega cosa dice Francesco io esprimo la mia opinione poi esprimo la mia opinione esprimo la mia opinione secondo tempo iniziato poi ci mancherà il tempo io sono rispetto l'opinione degli altri Inter che attacca da destra verso sinistra per chi non la può guardare se la puoi immaginare in maglia nera azzurra calzettoni e pantaloncini neri contro i bianconeri i bianco vestiti nella parte bassa pantaloncini e calzettoni palla in fallo laterale ricordo gli ammoniti al primo tempo devono stare attenti sia Vlaovic che Danilo Danilo non ci sono stati cambi né da parte di Simone Inzaghi né da parte di Max Alleghi Inter che manovra un minuto del secondo tempo se ne è andato sempre 1-0 il gol come avete ricordato più volte l'autorete di Gatti al 37esimo ancora Inter in possesso che ora ovviamente non ha tutto l'interesse ad accelerare sempre quindi alternerà e proverà ovviamente anche a segnare il gol della sicurezza ma non ha interesse ad alzare i ritmi si scalda Federico Chiesa che potrebbe essere l'asso nella manica una staffetta diciamo abbastanza scontata con il Misa l'idea è quella no? sì a meno che non se la rischi lì bisogna capire se vuoi rischiare o no io comunque ripeto per correggere il tiro io non ho detto che Alleghi non capisce la mazza me ne guarderei bene dire ciò anzi però dico che secondo me ad oggi Rugani dà più sicurezza di Gatti questo è il mio discorso vedremo se poi magari sarà un elemento che verrà fuori anche nelle conferenze stampa post partito ovviamente essendo in onda fino alle 24 avremo tutto il tempo di ascoltare tanto Simone Zaghi quando Max Allegri ti do il dato degli spettatori ma prima Bastoni che si inserisce con Di Marco che la dà Bastoni grande azione sulla sinistra uno dei punti forti dell'Inter Danilo chiude il calcio d'angolo arriva Danilo con una diagonale perfetta 75.547 spettatori tutto esaurito anche nel settore ospite quindi il meazza colmo colmo come un uovo Poggio per Vlaovic troppo forte quel passaggio per Vlaovic sbaglia il controllo il serbo ma il pallone di Gatti era una fucilata non era un passaggio recupera palla l'Inter che riparte con Cialanoglu che vede Lautaro Lautaro va nello spazio e già sulla tre quarti se l'allunga Lautaro se l'allunga l'esterno qua è bravo il numero 4 la Juventus interrompe la trama nera azzura il Diz puntalo e non può puntare ne ha 5 davanti dove va? deve tornare a destra lo fa per cambiarlo una volta ma se salta uno ne ha 4 dietro giustamente il tempo regge torna indietro fa ripartire l'azione la Juve deve salire un po' di più però qua qua Lautaro sbaglia una cosa non da lui respira la manovra McKennie l'Inter è posizionata in tutte le zone del campo Locatelli tre quarti di destra ancora con il Diz ancora Locatelli ancora il Diz di prima per Cambiaso prova a far girare palla con un po' più di velocità la Juventus per far uscire le due punte la Juve che pressano che sono Turam e Lautaro allora Bremer scarica per Rabiot bassissimo in questa fase del gioco nella metà campo bianconera anche se siamo nel versante loro Bremer Cambiaso cerchio di centrocampo allarga sulla destra per Locatelli il Diz no McKennie lato corto di destra può puntare Di Marconi a due su di lui Mkhitaryan Locatelli ancora tre quarti campo fuori per Danilo che prova il controllo e tira malissimo palla alta se non è Francesco i tre cambi sono già battezzati e sono frattesi per l'ammonito Mkhitaryan non subito magari tra cinque minuti e i due esterni perché Carlos Augusto è più bravo a difendere Di Di Marco ma anche Dunfris perché in contropiede può andare benissimo al posto di Arrian magari tra cinque minuti non subito Darmian attenzione sulla destra accelera la Dabra Barella al limite dell'aria se la porta sul sinistro Barella per Lautaro che la fa passare Di Marco carica il sinistro e il tiro fuori fuori Di Marco un passaggio sbagliato un passaggio che era per Lautaro va a finire Di Marco sì sì Lautaro era troppo di è ecco per esempio Di Marco posso dirti una cosa nel primo tempo sui down Michele hai ragione stasera trae il primo tiro con questo fa coppia con questo e diventa insufficiente perché comunque questa è una grande occasione per l'Inter che porta davanti dal limite dell'area senza avversario della Juve nel circondario intanto i tiri nello specchio restano 1-0 totali 10-3 Di Marco nel primo tempo era una volée difficile però è il suo il piede il sinistro qua invece è proprio Rasoterra devi prendere la porta l'angola troppo Inter che ci riprova ancora da destra con Darmian ora il cross in aria e Bremer anticipa Turam in fallo laterale rimessa laterale per l'Inter in attacco l'Inter che ha rimesso di nuovo fuori il naso io sono d'accordo che tu continui a stolineare i numeri dei tiri però bisogna anche contestualizzarli Michele perché se 10 tiri sono fatti uno importa no no ma infatti ma anche per dire che c'è imprecisione a volte perché questo di Di Marco è impreciso è ovvio che l'Inter sta facendo di più la partita abbiamo visto primo tempo 61-39 il possesso e anche nella metà campo avversaria Darmian spiovente in aria con le mani dal fallo laterale Cialanoglu attenzione il tiro palla fuori non ci posso credere Ciala che l'ha indirizzata con il collo del piede ricordava Maicon nel 2010 il fallo esterno alla sinistra di Cialanoglu ancora Ciala che inventa perché anche prima su Lautaro era stata la sua l'idea così come nel primo tempo su Di Marco ma quanto conosco la Juve io che fa tirare troppo da fuori però perché anche qua non c'è pressione su Cialanoglu Cialanoglu devi pressarli in quattro quando ha la palla tra i piedi fuori dall'area di rigore qua è al limite addirittura non puoi far sì che Cialanoglu attenzione Inter che recupera ancora una buona palla ma si fa anticipare Turam bravo anche Danilo però attenzione ancora Cialanoglu che carica il destra è una finta Mkhitaryan Inter che arriva in porta con Lautaro che viene fermato Gatti bravo qua rimanere in piedi bravo vincetto occhio agli Litz per ripartire la Juve con Costi sulla sinistra siamo stretti Rabion un po' di spazio è sbagliato Costi ci sta sbagliando tutte ragazzi come sono i nostri serbi la combattività di Lautaro in aria mi sarebbe aspettato qualcosa in più perché è vero che Gatti fisicamente lo sovrasta però lì Lautaro poteva fare qualcosa in più però ragazzi un minuto fa il palo di Cialanoglu il destro del turco che ha fatto tremare il palo alla sinistra di Cesni che non ci sarebbe mai 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 arrivato non l'ha visto partire non l'ha visto assolutamente neanche partire fosse stato in porta sarebbe stato il 2-0 per l'Inter ancora Inter con Cialanoglu che lancia sulla destra Barella che va nello spazio si allarga ora può crossare palla sul primo paro Lautaro palla che si batte su Gatti e rinviano ancora i difensori della Juventus Inter che però non molla molto aggressiva in questa fase molto molto aggressiva due occasioni clamorose di Marco Cialanoglu ancora Inter con Michiteria attenzione palla ma perché? qui si è fermato Darmian non so se ha un problema fisico o che altro stiamo rivedendo posizione regolare in quest'ultimo caso di Lautaro bravo in questo caso è stato Gatti che ci mette il fisico come avrebbe dovuto fare nel primo tempo con la fare sul gol eh sì spizza per il Diz la controlla in modo pazzesco dentro l'area di rigore per Kostis che la mette dentro la palla di Mane lì Mijiteria ovunque vicinissima l'uno pari ovunque attenzione a Turam che si invola può darla Lautaro la perde Danilo Cambiaso l'azione di poco fa è partita da un controllo eccezionale nel Diz dopo lo rivedremo perché si è capito poco nell'azione confusa e veloce da Juventus ancora Rabiot Juve che si affaccia una volta ancora nella metà campo nerazzura vicino all'area di rigore poco fa veramente per nulla di chitarra era quasi salvato sulla linea qua Rabiot sbaglia il controllo e regala a Barella ripartono con Lautaro che lancia ancora Cialanoglu nello spazio c'è Turam dall'altra parte vediamo cosa sceglie il numero 20 dell'Inter arriva anche Di Marco Cialanoglu la prova a dare a Turam in area di rigore la dà Di Marco nooo troppo lunga ragazzi si è accesa questo Inter-Juventus 1 contro 1 lato corto di sinistra dietro per Locatelli può scaricare per UEA limite l'area di rigore e bravo il numero 22 nello stretto a tenere il pallone lì poi allarga sulla sinistra per Gatti che arriva tira una bomba raso terra che esce larga di un metro occasione di Juve ancora ed è la terza di fine agli ultimi 10 minuti ti ha tirato scusa? Gatti se sceglie anche non dicevi che Gatti è uscita di pochissimo si si è uscita è quello che andava sostituito con Lugani ah è quello che non lo ricordi io non ho detto che andava sostituito con Lugani non ho detto che sto parlando io con lui però parli di me no di te però figura che parlo di te parlo in generale io ho detto un'altra cosa che doveva giocare un po' di Gatti comunque Juve ancora vicina al gol del pari molto meglio secondo il tempo Bianconero rispetto al primo e questo pallone è passato vicinissimo di pochissimo una spanna se la parte sinistra forse non serviva neanche angolarla troppo probabilmente ma l'ha tirata un po' all'accetta eh lo so uno come Gatti cosa ha fatti no no per verità quello che viene viene l'Inter a sinistra ha una facilità di proposta di azione dal basso però è la parte che mi fa temere di più quando devono chiudere cioè dalla parte di Di Marco Bastoni era successo sia su McKennie nel primo tempo quando poi l'ha data Vlaovic e sia adesso perché Gatti non è un attaccante ma lì Di Marco Acerbi e Bastoni anche erano tutti un po' in ritardo Ancora Juve Gatti Locatelli in spaccata toglie il prezzo di Ceranoglu io Carlo Saugusto lo inserirei adesso al posto di Marco tutte le palle in mezzo al campo ancora Bremer 69 di gioco allarga dalla parte opposta del campo per McKennie che stop ripeto deve rientrare in mezzo al campo servire Vlaovic che viene anticipato da Cerbi poi pallone torna a Chiesa che prova a saltare dice di no l'arbitro riparte l'Inter e quindi Barella va in campo aperto attenzione Barella Barella sulla tre quarti allarga a sinistra invece cross attenzione per Barella che sono il tiro da Barella di Cesdi Barella che prende in pieno Cesdi qua poteva fare forse anche meglio per una grande parata del polacco sono allargate le maglie io voglio vedere l'intervento su Chiesa da parte del campo questa però è un'occasionissima per l'Inter Barella sbaglia tutto solo si divora meglio il gol del possibile 2 a 0 adesso è la Juve che riparte Bremer per Rabiot può andare il francese forza Duca scarica sulla destra per UEA che arriva in appoggio poi ci fa vedere McKennie ancora sulla destra vai Weston punta di Marco guarda che c'è Rabiot che richiede il pallone servito il Duca con il numero 25 il tiro la deviazione di Michitar la pallatora indietro c'è Gatti che deve andare a recuperarla perché Turam arriva in anticipo e la prende e parte Martus in velocità se ne va Turam attenzione Turam che supera quindi Gatti ora punta anche Bremer attenzione entra in aria la spallata niente no no ma il metro è questo caro mio caro mio il metro è questo a parte che l'intervento mi sembra pulito di spalla corretto e vabbè anche come il fallo di prima che gli reclamava la Juve non sta fischiando quasi mai quindi il metro è questo questo era spalla contro spalla tutta la quale contro spalla non lo fischi e spalla sulla schiena Locatelli cambiaggio però col metro che c'è ci sta che tu lasci correre ma anche prima ripeto il centrocampo era molto al limite Locatelli la partita la sta facendo la Juve nel secondo tempo ragazzi se doveva dare una risposta dal punto di vista di gioco la reazione ci sta almeno in campo c'è vista e c'è però dobbiamo essere più preciso su porta perché le occasioni sono state almeno due se non tre UEA tre quarti campo è brillante il ragazzo stasera salta Mkhitaryan serve sulla destra McKennie che può puntare ancora Di Marco che è sempre su di lui a ringhiare ancora Rabiot si può spostare il pallone in area di rigore prova a servire dentro in area di rigore Cambiaso che va per terra da solo palla dietro Danilo giro palla sulla destra di nuovo per UEA che può puntare qua può puntare qua UEA può puntare qua UEA palla dietro per Rabiot a limite in area di rigore prova a calciare bravissimo Mkhitaryan interrompe l'azione di gioco ancora Juve Danilo recupera la palla e Bremmer in anticipo su tutti i palloni bianconeri 20 minuti più recupera la fine ancora Rabiot UEA è entrato molto bene McKennie scarica su Locatelli Mario ancora UEA qua sbaglia il controllo perché il pallone di Rabiot è sbagliato Di Marco poi la prova a mettere in dentro c'è l'anogluo recupera c'è l'anogluo esterno con un tocco di fino ancora per Barella Barella a sinistra l'intero in superiorità a sinistra stanno entrando dunque credo Carlo Sogustomo intanto c'è Di Marco che forse si gioca la sua ultima azione palla al centro pericolosa per Barella anticipato sulla sinistra entra in area di rigore la mette sul secondo palo troppo lunga per Vlaovic arriva però McKennie che la tiene dentro su lui c'è anche Bastoni guarda che Bastoni che esulta Bastoni che esulta è esultare davanti a tutti i giocatori no va a esultare verso il pubblico per incitare il pubblico mamma mia che ha fatto uno scatto esilarante 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 cioè ti ha fatto venire da ritenere sai lo scatto esilarante ma cosa dici esilarante non sa neanche il significato no spumeggiante direbbe qualcuno spumeggiante questo scatto di Bastoni che si doveva far perdonare prima un pallone in uscita sbagliato dato all'avversario stavolta invece un bello scatto esulta come se avesse segnato anche per creare ancora quest'ambiente negli ultimi dieci minuti l'Inter deve difendere il vantaggio e provare poi a colpire in contropiede come sta provando a fare in modo esilarante 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 rinvio di Sommer la prende di testa Dunfriss Arnautovic la sponda per Barella arriva ancora Dunfriss a dare manforte ancora Marco Arnautovic con il numero 8 subisce fallo fallo gli prendono il piede ma perché ha fatto quella Veronica lì ma dalla dieci minuti più recupero sì dieci più recupero la fine di questo Inter-Juventus con Arnautovic che va a prendersi un prezioso calcio di punizione anche per per guadagnare qualche secondo Juventus che cercherà il tutto per tutto per andare almeno a pareggiarla l'Inter che invece ha il compito di segnare il 2-0 eventualmente per chiuderla e adesso ci proverà con questa punizione affidata a Cialanoglu sempre lui il numero 20 dell'Inter 9 gol quest'anno 7 su calcio di rigore il massimo nella sua carriera era stato 9 gol con il Milan nel 19-20 ha eguagliato ma ancora mezzo campionato davanti per migliorarsi batte Cialanoglu dalla tre quarti palla in aria attenzione respinge ancora la difesa da Juventus Usciano dai linea aerea è difficilissimo sfondare quel muro però c'è Arnautovic che adesso di testa può dire la sua vediamo se lo cercano i compagni ancora Inter 81 minuto di gioco regge il gol nel primo tempo al 37esimo l'autogol è di Gatti ancora possesso Inter a centrocampo Inter che prova anche un po' ad addormentare ai ritmi e quindi va all'indietro da Sommer giustamente ha fatto la cosa più difficile sbloccare la partita però abbiamo visto la Juventus pericolosissima in aria in questo secondo tempo così come l'Inter del resto anche dall'altra parte con un palo di Cialanoglu un barella che ha preso Cesni solissimo no no ma da una parte e dall'altra ce ne sono state se volevamo una risposta rispetto alla partita d'andata questa è una partita con un ritmo altissimo secondo me perché c'era l'1-0 che fa capire che le due squadre meritano i posti che hanno e per adesso sta decidendo una giocata purtroppo per noi attenzione Michi Tarjan recupera l'ennesimo pallone a centrocampo attenzione il treno armeno alza la testa ancora gli viene soffiato via il pallone si continua con Danilo sbaglia il rinvio la Juventus recupera Barella sulla destra 82 minuti ancora Cialanoglu che può mettere in mezzo vediamo se cercano Arnautovic Michi Tarjan cerca Arnautovic Marasoterra allarga per Dunfris attenzione l'olandese può crossare la mette forte Tesar e spinge ancora Danilo Cambiaso la mette fuori Rabiot bella partita Chiesa palla alla porta laterale per la Juventus all'andata ci fu quell'1-2 in un minuto quindi non ci fu nemmeno la possibilità per una squadra di sbilanciarsi e si accontentarono qua invece la Juve non si può accontentare perché sta perdendo la spizza di petto per Lautaro che riesce a prolungarla per Dunfris attenzione Dunfris la mette al centro per Arnautovic Scelsman miracolo ancora il Polacco cosa fa Arnautovic qua Scelsman fa una parata mostruosa cosa ha sbagliato Arnautovic cosa si è mangiato Arnautovic come era la parata Scelsman parata Scelsman parata Scelsman guarda che lui ha tirato il porto lì sei dentro la porta la doveva farla qua ragazzi cosa va a fare ma fai pure il corpo sotto per quello che vuoi a differenza di Claudic almeno Arnautovic la calcia qui è monumentale Scelsman magari la sbaglia Arnautovic che poteva fare uno scavetto poteva toccarla poteva alzarla però qui c'è anche un portiere che fa una roba il secondo miracolo di Cesni gigantesca la parata di Cesni la seconda dopo quella su Barella questa di più fuori cambiato dentro Miretti le responsabilità di Arnautovic ci sono e ci sono tutte perché comunque solo davanti al portiere il centroavanti è l'Inter qui lo poteva veramente chiudere dentro Alexandro al posto di Gatti ed è pronto a entrare anche a Chiaraz per gli ultimi due minuti più recupero a San Siro intanto calcio d'angolo per l'Inter dopo il miracolo di Cesni su Arnautovic grande palla di Dumfries che era stato servito da Lautaro intanto entrano anche De Vrij e Klaassen gli olandesi vediamo chi esce 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 Barella entrano due Klaassen per Barella e De Vrij per Bastoni quindi con Acerbi che scala sul centro-sinistra De Vrij centrale quindi dietro un po' più muro negli ultimi minuti e Klaassen aveva detto già dopo l'ultima partita che meritava di giocare di più e gli fa fare uno spezzone di una partita importantissima è curioso che comunque in una fase così delicata metta Klaassen e non Frattesi perché Frattesi è più da strappo mentre Klaassen è anche un giocatore magari è vero è vero si Frattesi in questo momento a giocare nell'Inter ma poi Frattesi al 93esimo ha segnato già due volte entrando calcio d'angolo per l'Inter 89esimo tutti a saltare un minuto e 25 e poi recupero gli alti dell'Inter ovviamente tutti in aria parte Cialanoglu palla al centro esce Cesnir e spinge di pugno vediamo la palla dove va a finire proprio nella zona di Klaassen che di testa la prolunga all'indietro per De Vrij ancora Klaassen che non vuole rischiare niente allora va da De Vrij che la lascia scorrere per Sommer pressalo pressalo Inter che ora ovviamente decisive della partita con Sommer che lancia a lungo per Arnautovic cerca l'Austriaco che di testa la prende così come Dunfriss ora abbiamo molti più centimetri lì in avanti sia Dunfriss che Arnautovic che hanno confezionato quella palla goal che però Arnautovic è riuscito a non concretizzare nemmeno oggi sta inseguendo il primo gol a San Siro nella sua carriera che esordisce adesso dopo un allenamento con la squadra bianconera bravissimo ottimo la partita di McKennie mi è piaciuto molto potremmo essere intorno ai 5 di recupero ragazzi il voto si è croce questa Francesco conta come presenza e sai che più gioca e meno lo paghiamo si c'è a parte quello omonimo occhio che adesso vennerà a segnalare fanno laterale per l'Inter con Dunfriss in zona d'attacco cerca ancora Arnautovic di testa che però si fa scostare troppo facilmente ma lotto un po' di più bravo Danilo bravissimo Danilo bravissimo Danilo comunque riguardando l'occasione di Arnautovic Scesdi mostruoso si perché gli va sul tempo proprio gli arriva addosso in modo disperato tra l'altro non può fare altro che quello occhio al colone Permiretti Dunfriss che cerca Lautaro troppo corta fa la lunga Tamburello ora 5 di recupero a partire da adesso 5 erano 5 e 5 sono come va detto Francesco indovina il recupero Lautaro attenzione Lautaro che cerca Carlos Augusto ancora Michi però c'è un fallo cosa fa Inzaghi? Bremer qua blocca Lautaro punizione per l'Inter Sì Inzaghi stava semplicemente chiedendo il fallo ma l'arbitro ha fischiato il fallo Aspetta dice Inzaghi aspetta la Playstation e l'Inter ora vuole tenere palla perché siamo in modalità gestione ma non sarà semplice perché mancano 4 minuti e mezzo gestione non è l'ultimo minuto palla lunga di Sommer per Carlos Augusto che di testa va e allora Arnautovic tenta una grande giocata di tacco per Lautaro chiede il fallo di mano braccio attaccato Cesni recupera la palla Juve Alexandro primo pallone mamma quell'area di rigore lì mamma quel giocatore in quella posizione lì cosa mi ricorda Alexandro 91 di gioco Alcars primo pallone allarga su Rabiot resistere 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 disse un mio omonimo UEA Inter chiusissima si prova a passare da tutte le parti qua Rabiot si cambia no non si va dalla parte opposta del campo si scarica su Locatelli sempre sulla destra centro destra del campo Locatelli in verticale per UEA bravissimo Acerbi a chiudere a spazzare via lontano non c'è nessun interista la Ceinzani che prova lo stop di tacco non ci riesce la palla è già uscita dai ragazzi andiamo a recuperare questo pallone Rabiot come la batte nemmeno le mani dietro qui c'è Rabiot che se la prende con Barella deve aver detto o fatto qualcosa il francese non gli dava il pallone non gli dava il pallone Alessandro 91 e 50 credo che si sia o forse è andato a prendersi con un po' troppo erruenza magari c'è una telecamera che ci mostrerà quello che è accaduto Sala che si frappone tra il passaggio e fallo sull'Autaro sì Maresca dice di sì e quindi punizione per l'Inter Lautaro partita di sacrificio non è stato ammazzato molto incisivo nell'aria di rigore ma ha dato diciamo una grande mano e anche per questo Inzaghi non se l'è sentita di toglierlo perché il peso che ha il capitano cioè lui prende il colpo sull'anca guarda 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 il mestiere qua del capitano guarda il mestiere prende l'ancato sulla gamba sinistra si tocca la destra si gira guarda l'arbitro e poi si ributta stile Faraoni stile Faraoni perdiamo un po' tempo va bene così va benissimo così Inter in possesso ancora due minuti e mezzo 150 secondi è lungo infatti sbagliamo in modo ingenuo Locatelli Aycaraz manovra pallone terzo lo allarga bene su Chiesa che deve dare uno strappo e lo fa per UEA sulla destra in area di rigore sono Vlaovic Locatelli ancora pallone all'indietro per Aycaraz che rincorre il pallone serve benissimo per Rabiot sulla sinistra che appoggia a sua volta per Alexandro dai Alexandro su hai un debito con noi su questo stadio in questo campo pallone all'indietro per UEA la Cica Carlos Augusto la recupera a Chiesa lato corto di destra 93 due più recupero anzi due minuti alla fine della partita rimessa laterale o calcio d'angolo rimessa laterale mi sembra sì Kenny qua che può rinviare no angolo 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 direttamente Chiesa sei saltatore in area della Juventus Inzaghi fuori dalla tecnica ancora ridosso del quarto uomo a chiamare i suoi Chiesa due punti di battuta 93-20 ragazzi stiamo perdendo 30 secondi per che cosa? pallone dentro di Chiesa sul secondo palo parabola morbida la prende da Nilo c'è la nuova spara direttamente in porta dall'altra parte e la palla va in palo laterale arriva Mieretti i palloni non ci sono guarda dai Classen dai tieni 93-40 dai Fabio dai Fabio su Alexandro sì io ho capito era più dietro ultimo minuto e 15 di gioco 80 secondi da giocare Bremer Alexandro di là devi andare dai Arna che sei fresco Locatelli l'ultimo minuto di gioco inizia adesso Inter-Juve 60 secondi alla fine palla lunghissima cercare Bremer che salta bene di testa per Vlaovic che è anticipato però da De Vrij bravissimo De Vrij ancora Danilo anticipato Lautaro stoico il capitano dare il pallone a Rabiot che può allargare sulla destra per Chiesa che ha anticipato da Carlos Augusto che la mette fuori di testa la parola fuori di campo la recupera ancora UEA 45 secondi alla fine ancora Timothy gioca un po' col pallone con me Alcaraz ancora chiudere al centro sulla sinistra in verticale per Rabiot che deve uscire dalle linee e tornare indietro Danilo Pocatelli 94 e 30 ancora Danilo allarga sulla destra per Chiesa è ottimo il controllo viene tirato giù vantaggio Miretti sul secondo pallo è pessimo il cross per Bremer è lungo Fabio sto cross bravo Klasen che cross è questo? Klasen Klasen mamma che cross Klasen Chiesa qua Klasen e forse qui finiscono le speranze della Juventus 8 secondi alla fine dai ragazzi dai dai teniamo palla adesso Klasen dice è finita? è finito? in italiano lo dice 5 minuti che sono passati entriamo nel recupero del recupero in sacchi dice è finita la partita l'Inter vince 1 a 0 con la Juventus il gol è di Gatti nella sua porta al 37esimo Inter che trova l'allungo che aveva tanto cercato e credo che alla fine si possa dire anche che nel complesso soprattutto per il primo tempo è meritato perché nel primo tempo ha giocato solo l'Inter nel secondo è venuta fuori la Juventus che ha creato anche dei pericoli ma anche l'Inter di ripartenza ne ha creati degli altri alla fine è partita molto combattuta sono d'accordo con Francesco le due squadre hanno legittimato sono le due più forti oggi in Italia ma in questo momento la classifica ci dice che l'Inter ha dare lo strappo più 4 rispetto alla Juventus con una partita in meno Inter a quota 57 Juventus a quota 53 ne approfitta il Milan che ha vinto ieri in quel di Frosinone e comunque si porta a 4 punti soltanto dal secondo posto e dalla Juventus Tiziano parto da te per chiederti se alla fine il risultato è stato giusto Sì perché le squadre devono recitare anche il mio a colpa le occasioni per segnare i gol ci sono stati da una parte e dall'altra non li hanno concretizzati per cui il gol è stato determinante l'autorette e devo dire che alla fine mi sembra il risultato più giusto anche per perché chi non ha segnato deve recitare il mio a colpa Va bene ragazzi prendiamoci due minuti diamo la linea alla regia a rientro gli up and down e tutti 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 i commenti di questo bellissimo Inter-Juventus ha parlato per settimane l'appuntamento era fissato proprio per il 4 di febbraio a San Siro e lo scontro diretto se l'è portato a casa l'Inter che adesso comanda con 4 punti di vantaggio sulla Juve e una gara da recuperare quella di fine febbraio a San Siro contro l'Atalanta una Juventus che ne è uscita comunque a testa decisamente alta a decidere è stata un'autorete un'autorete di Federico Gatti Juventus che nello stesso stadio contro il Milan ha vinto grazie a un'autorete se vogliamo di Crunice in questo caso invece perde a causa di un'autorete di Gatti apriamo chiaramente il capitolo dedicato ai commenti aspettiamo i due allenatori in sala stampa tra una mezz'oretta circa e poi cercheremo un po' di fare il punto anche su tutto quello che ha detto questa giornata in cui il Napoli per esempio ha vinto in cui l'Atalanta ha vinto molto bene in casa contro la Lazio in attesa della Roma che contro il Cagliari chiuderà questa giornata di campionato allora andiamo con gli up and down di chi ha vinto Michele chi sale e chi scende dei tuoi allora come promesso durante il secondo tempo Michi Terian che era a 7 nel primo tempo sale a 8 per me il migliore in campo era ovunque sia in fase di interdizione che in fase offensiva ovviamente un gigante 8 migliore in campo per me poi confermo Pavard perché ha fatto veramente una partita perfetta anche a Cerbi però Pavard su tutti anche in fase offensiva ha messo lo zampino nell'azione del gol e quindi gli do 7 e mezzo e l'ultimo dei tre confermo come nel primo tempo Cialanoglu che però sale a 7 perché il palo esterno anzi 7 e mezzo scusate Cialanoglu perché anche giocando davanti alla difesa è stato molto pericoloso in avanti quindi 7 e mezzo come per Pavard anche Cialanoglu potrei citarne altri però loro vanno bene così chi scende è molto difficile perché l'Inter ha saputo anche soffrire però uno stavolta glielo voglio mettere mi dispiace non voglio infierire però si mangia un gol che è vero bravissimo Cessni tutto quello che vuoi però sei solo a un metro fai qualcosa ma buttala dentro e quindi 5 e mezzo Arnautovic non è un voto molto basso perché alla fine poi è entrato nel finale si è dato anche da fare però il 5 e mezzo glielo do per ricordare che c'è stata un'occasione clamorosissima ma un 5 e mezzo mi viene da dirti a Lautaro che è stato meno Lautaro di altre partite hai ragione hai ragione però secondo me è un 6 perché ha lottato dai facciamo ma 6 cioè come faccio a metterla di down se gli do 6 no nel senso se gli do 6 0 come? non l'abbiamo visto Lautaro ma dai ha lottato a tutto capo ha fatto il difensore ha lottato ma è un bomber è capocannoniere ha lottato è un bomber ma ha fatto nella fase difensiva quando l'Inter doveva soffrire ma ha aiutato i compagni a non andare in inferiorità era ovunque dai anche alla fine con la lingua di fuori non ce la faceva più perché ha giocato a tutto campo è andato bene così ha recuperato tanti palloni nel secondo tempo con il 5 e mezzo l'unico interista che scende avevi qualcosa da fare con Michele tu? che confusione sarà perché ti fiamo è un'emozione che sale piano piano siamo tutti in piedi è il nostro capitano stammi vicino in campo c'è Lautaro oppure l'altro finale che non si è visto qual è? la 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 che non ho visto la 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 e beh è giusto che gli interisti festeggino questa vittoria comunque comunque importante se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va la capolista se ne va e se ne va e Oppini resta là e Oppini resta là e noi festeggiamo qua e Oppini resta là e noi festeggiamo qua va bene mentre voi continuate a festeggiare là Francesco mi darà gli appendano invece della sua Juve io parto a tutti i conti che sono molto ma molto ma molto soddisfatto dell'atteggiamento della squadra soprattutto nel secondo tempo perché per tanti la Juve non non poteva reggere e i bookmakers davano la Juve per disfatta stasera erano 4.50 la vittoria Juventus si parlavano sentivo parlare in settimane non solo di rischio imbarcate o cose del genere alla fine la partita la vince l'Inter con un autogol di Gatti di corto buso si può dire che prende si di corto gatto di corto gatto di corto miau che prende ovviamente lui fa un secondo tempo interessantissimo fa molto bene sulle chiusure migliora molto anche all'inizio della partita fa comunque delle cose importanti però io continuo a ribadire il concetto detto all'inizio per me la partita del genere la deve giocare Lugani non Gatti oggi contro l'Inter è un pensiero mio non sto con questo dicendo che l'allenatore non capisce niente o qualsiasi altra cosa ma Gatti per questo regala la vittoria all'Inter con una giocata che purtroppo gli scappa gli scivola di mano perché non sente bene Turan e quindi 5 c'è però chi sta peggio di Gatti perché secondo me Vlaovic sta peggio di lui Vlaovic sbaglia un controllo del primo tempo che costa la partita della Juventus e nel secondo tempo nullo e nel secondo tempo sparisce completamente a differenza scusa mi sto parlando a differenza di Michele Borrelli e di come si dice Simone Simone Barbato io credo che analizzare anche quando le cose proprie nella propria squadra non vadano nonostante un successo possa essere fatto se io sentire dire che Lautaro combatte con quello che ha fatto quest'anno Lautaro Martini cioè segna praticamente ogni partita una media goal altissima che può arrivare a sfiorare i gol di Guaini anzi superare i gol di Guaini di Immobile se va avanti così perché la media è più o meno quella parliamo di giocatore che contro la Juventus deve fare la differenza non la fa e non la fa come Vlaovic però ha saputo soffrire che Vlaovic come prende 4 e me ha saputo soffrire anche Vlaovic per non spallare Vlaovic si è mangiato un gol ha saputo soffrire Michele non è un aggettivo che tu puoi dare a uno come Lautaro Martini ma invece questo è Lautaro Lautaro è un giocatore totale questo è il mio pensiero tu non dici quello che vedi io lo dico come non lo dico quello che vedi però scusa non iniziamo però io ho detto quello che ho visto e ho visto una parola di sacrificio allora se la metti su questo piano ti dico domani ti sfido a trovare un'insufficienza a Lautaro facciamo così e così vediamo chi vede e chi non vede senza che a bocchi ti nervosisci no non a bocco perché io ho teso la mano dicendo è a ragione Francesco che ha visto una Juve bene nel secondo tempo tu di Lautaro non mi è piaciuto ma non dire Michele non dice quello che non vedo facciamo Vlaovic 4,5 e il terzo? il terzo che scende i miei retti che nell'ultima azione di gioco entra in campo dove c'è un vantaggio perché Chiesa viene buttato per terra fuori dall'area di rigore e lui sul cross con due uomini in area di rigore lo calcia malissimo gioca un pallone lo gioca male quindi 5 poi ci sono gli up che sono Cesni 8 perché quella parata su Arnaldic per me è una parata miracolosa non è un gol ma è un miracolo di Cesni quella su Barella è distinto è Bremer che fa una partita che annulla completamente l'Autor Martinez e lo ribadisco poi ognuno può pensare come vuole però visto che io sono oggettivo anche nei miei dati secondo me perché poi parlo anche dei miei giocatori e Bremer secondo me oggi ha salvato la Juve da più gol insieme a Cesni cioè se la Juve perde 1-0 perde perché i gatti fanno 8 gol ma non perde di più perché Bremer e Cesni fanno una partita di questo calibro il terzo come lo premi Bremer? 8 8 anche lui 8 il terzo Danilo Danilo perché fa una partita da capitano fa una partita da 7 non molla niente insiste nonostante il giallo non tira mai indietro la gamba e rischia più volte per la causa bianconera quindi questi per me sono i voti all'insù mi viene da analizzando questi tre quello che emerge è che i tre migliori sono stati tre difensori tre diciamo del reparto difensivo quindi questo significa che è stata una partita comunque di sofferenza per la Juventus no 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 perché secondo tempo non è di sofferenza secondo tempo la Juve gioca meglio dell'Inter secondo tempo gioca meglio dell'Inter l'Inter ha due occasioni clamorose con Ornautovic e con Lautaro ma la Juve gioca meglio nel secondo tempo la Juve ha tirato tre volte una volta Mkhitaryan salva sulla linea una volta Cosic calcia fuori di mezzo metto Gatti calcia fuori di una spanna nell'ultimo quello che sto dicendo tu hai detto due occasioni per me la Juve nel secondo tempo gioca meglio l'Inter ha avuto due occasioni l'Inter ne ha avuto tre clamorosissimi e Ciananoglu ha preso il palo ma non stiamo parlando di occasioni io ho detto che la Juve ha giocato meglio ma l'Inter nel secondo tempo non è stupida sei in vantaggio dici adesso il pallino ce l'hai tu nel secondo tempo italiano la Juve gioca meglio la Juventus nel secondo tempo gioca meglio che poi le occasioni siano più o meno le stesse secondo me no perché l'Inter in vantaggio ti lascia il possesso perché in ripartenza può fare male per me la Juventus gioca meglio dell'Inter nel secondo tempo come l'Inter nel primo tempo domina la gara sul gioco completamente perché la Juve ha un'occasione con Valovic che cestina in modo ma la Juve nel primo tempo ha scelto di stare bassa quando non ha più niente da perdere perché sta perdendo deve rischiare qualcosa l'Inter in quel momento invece entra nella modalità quattordicesimo Cliccitto oggi in campionato quattordicesimo la Juve è una difesa solidissima l'Inter ancora di più questo dicono i loro qual è il problema della Juve se io sto vincendo perché non devo andare dietro a stare davanti all'altro perché mi criticate spesso e volentieri non tu il fatto che la Juve sul 1-0 si abbassi e l'Inter che dovrebbe essere quella che secondo i bookmaker secondo qua secondo e là dovrebbe stritolare tutti la Juve quest'anno a meno 4 l'ho già vista ma nel secondo tempo l'Inter ha giocato in contropiede perché la perdi perché Gatti fa un autogol alla fine il suo discorso è questo ma nel secondo tempo l'Inter per il contropiede fa benissimo a farlo il problema della Juventus di questa sera e anch'io sono d'accordo con Francesco che il secondo tempo della Juve mi ha soddisfatto è l'atteggiamento che mi è piaciuto che è la cosa che conta però quali sono stati i problemi che abbiamo visto chiesa a mezz'ora che non è neanche al 50% della condizione Rabiot pure Rabiot peggio ancora non ha mai strappato non ha mai cambiato non ha mai avuto quel guizzo che ci aspettiamo da Rabiot e poi e lo sottolineo anch'io quando la davanti hai il bomber in serata no decisamente no come Vlau cosa avevo detto io all'inizio il concetto è Arnaut secondo me non sbaglia non divora un gol tira nel modo in cui deve tirare in quel momento e scesi di fare entrambe le cose però è fiscesi di fare meglio lo sbaglia e scesi di lo fare Vlauvić non dà l'opportunità a Sommer o agli altri di dire hanno fatto un salvataggio perché fa un disastro posso aggiungere un aggravante su Vlauvić spaglia ed esce dalla partita completamente perché poi questa cosa qui la vedi che è un giocatore che con il giallo non è mai entrato perché anche all'inizio ha fatto un paio di falli se vi ricordate Maresca è andato a dirgli guarda che è il prossimo hai il giallo lui ha fatto un fallo ha protestato non è mai entrato in partita sono d'accordo e questo è grave è grave con Giovanni in uno a partito del genere scusami un attimo scusami perché se no andiamo fuori tema e io oggi pomeriggio ho detto tre volte che non ho ancora capito se Vlauvić è quello delle ultime settimane o se è quello da ottobre in poi dove sparisce è una vita in mezzo che forse ancora non è chiara perché quando poi si dice Allegri non rifornisce i palloni a Vlauvić io oggi vorrei vedere quelli che parlano in questo senso cosa mi vengono a dire di quella palla lì e certo il pallone è arrivato certo dicevi Simone no volevo dire un solo un'obiezione sono stati fatti degli up and down non sono d'accordo per esempio su Gatti assolutamente per me ha fatto una buona partita ma fa il gol e il gol io non gli do proprio tutta questa ma come no chi lo decide se fosse la finale di Champions chi la decide la finale di Champions oggi Gatti con autogol non è grave finisce 1-0 purtroppo sì non lo fa costa no però a prescindere dall'episodio non ha fatto una brutta partita per esempio però finisce 1-0 no ma per esempio Rabiu ha fatto una partita rispetto al giocatore che è molto più insufficiente rispetto a lui perché era fuori infatti da due settimane McKenny ha fatto benissimo per me non l'ho messo negli up perché c'era gente che ha fatto meglio di lui la domanda che ti faccio è questa Gatti a prescindere da mettiamo togliamo quell'azione lì del gol come ha giocato ma non puoi togliere l'azione del gol cioè perché se tu fai benissimo per 10 anni ma poi per sbaglio fai una cosa pessima che rovina tutta la tua carriera ma lì non è stato non puoi non considerarla ma non è stato quello lì allora c'è non parliamo di carriera parliamo di un errore che però incide nel derby d'Italia perché l'Inter vince 1-0 perché Gatti fa un gol come c'è ma è troppo semplice come c'è ma anche perché non è un autogol sfortunato sbaglia però dico Danilo Danilo è fuori posizione Danilo deve andare su Pavard ha sbagliato anche Vlaovic ha sbagliato anche altri giocatori quindi di conseguenza c'è gol e gol gli altri vanno criticati la differenza sostanziale a oggi sono anche i gol segnati e quelli subiti l'Inter con questa autorete va a 51 la Juventus è fermata a 36 è sempre lì il discorso è 36 hai le occasioni non le sfrutti Simone non è un errore così grave se posso esprimermi dico solo la mia in semplicità come c'è gol e gol c'è anche autogol e autogol questo non è un autogol determinante eclatante è un autogol che la colpita è uno di quegli autogol che si possono anche chiamare non autogol diciamo però finisce una determinata determinata il risultato come fai a dire un autogol che non è definibile come autogol ma cosa stai dicendo ma no perché gli è picchiata d'osso ma avessi vinto 3-0 capirai il tuo ragionamento hai vinto 1-0 con un autogol di Gatti non la tocca mai l'altro ma la palla è andata dentro da sola su però quando Barella la dà Pavard Pavard io abdico basta Pavard dentro l'aria quando Barella gli dà la palla è solo c'è anche quella l'errore lì Pavard poi forse la schiora forse no non la tocca proprio non la tocca proprio capito però Gatti non è che impazzisce se la butta dentro c'è Turam vicino a lui che lo induce contestano proprio l'errore di posizione di certo che è un errore di Gatti ma è sicuro un errore che deve fare dell'altro magari non mettendosi dietro per esempio esatto se fosse stato un passo avanti uno solo quella parallela anticipa di testa la butta fuori se lo catelli magari Turam un passo avanti la butta dentro ma il gol lo fa Gatti non lo fa Turam Michele avete vinto ti sto dicendo che avete vinto non è che sto dicendo il contrario ti sto dicendo che però il gol partita lo fa Gatti ma dire che Rugani è più forte di Gatti mi sembra una roba per me è Rugani più forte di Gatti no è più utile per me Rugani è più sicuro di Gatti magari non in senso assoluto ma lui dice per il tipo di partita per il tipo di avversario per il tipo di situazioni tattiche che si sarebbe volato creare in fondo ha sbagliato in occasione l'autogol per l'amor di Dio ci vanno le critiche ma non è che Gatti ha fatto una partita scadente ha sbagliato in occasione del gol e quindi gli va un voto basso ma dire che se gli fosse stato Rugani l'autogol non lo avrebbe ma io ho detto questo magari faceva un'altra cazzata ma io ho detto questo no ma non ho detto no però hai iniziato la trasmissione posso parlare in generale però ti spiego ti spiego perché ribadisco il concetto di prima perché se tu hai un giocatore che gioca meglio a destra che a sinistra e Danilo si trova molto meglio a destra molto meglio non poco molto Rugani è uno che ha vinto 5 scudetti era il primo sito di Barzagli Bonucci e Chiellini per me in certe situazioni è uno che ti dà più tranquillità al reparto stasera Gatti fa una buonissima partita sulle altre cose peccato che quell'autogol hai la seconda difesa del campionato una delle difese più imbattute stasera hai perso però a stasola hai perso perché ragazzi si fa tre gol su quattro a soli non ci perdi perché ragazzi si fa un autogol non ha segnato l'autogol me la concedi una cosa io volevo un attimo Simone io volevo comunque puntare anche il dito perché è pur vero che Pavard non tocca il pallone ma se Locatelli lo segue e gli si mette dietro quel pallone non passa però è Danilo lì secondo me centrosinistra col centrodestra che avanza dentro l'aria ma chi se lo perde è Locatelli Danilo è il difensore e non marca nessuno ma Danilo non può prendere quel pallone anche se marca Pavard Pavard per provare a prendere quella palla fa una sforbucciata ma Danilo lo deve mancare da dietro no deve semplicemente stare in un altro posto dico io è troppo avanti e non marca nessuno l'azione non parte se Locatelli si mette nella posizione che dice lui ha ragione fatto sta che poi cosa succede però devi pensare ragazzi capito che non vi va è un'analisi della partita l'analisi non è la partita finita l'analisi è primo tempo nove tiri a due è andata mille volte ti segna l'Inter no sto dicendo che una volta che tu vai sempre lì il primo poi va dentro nel secondo tempo la Juve dice adesso non posso più difendere l'Otogol e con una partita diversa l'Inter in contropiede può segnare la Juve può venire quale occasione chiara hai a parte l'autogol nel primo tempo quale chiara occasione hai alla prima azione il cross di Turam Michi da Rian Gatti fa un salvataggio pazzesco non la prende poi Di Marco fa il cross di Turam Bremer fa un salvataggio pazzesco occasione vuol dire tipo Arnauto tipo Barella tipo Cialanoglu col pallo ma l'hai detto pure tu Bremer 8 perché ha salvato un gol l'hai detto mille volte ha salvato un gol ha salvato un gol ma non ha salvato più gol è un'occasione dell'Inter clamorosa clamorosa Cialanoglu di Marco Turam è diverso non ti importa tu parli di nove tiri a due quello non ti importa no nove tiri fuori allora ti sto dicendo se il partividi è fastidio visto che pensavo di distruggere la Juve ma che distruggere ma che distruggere tu mi interessa vincere il 26 maggio ma è successo l'hai vinta la partita con un autogol di Gatti questo è succo Michele le occasioni ci sono state la partita poteva finire 3 a 2 per l'Inter ma anche 1 a 1 però sottolineiamo il fatto che visto che è finita 1 a 0 l'autogol di Gatti è quello che conta ma voi loro parlano da giugno della parata di Lukaku sul tiro di Marco che tra l'altro non era la parata perché c'era un altro non si può dire che l'Inter vince 1 a 0 perché Gatti fa un autogol ci faccio capire basta poi è ovvio che l'Inter è più forte ma se non la fuocca l'è meno il primo tempo l'Inter vince 1 a 0 perché Vlaovic che è un sbordidabile giocatore anche anzi dai stasera c'è stato non ho la certezza di Vlaovic perché noi si possono fare sbagliare ragazzi è concatessa un colpo di fortuna stasera una gara che insomma so dire non cambia più di tanto le cose all'interno del campionato mi pare insomma l'ho sentito abbastanza soddisfatto della prestazione dei suoi lui è uno che insomma difficilmente si lascia andare a grossi picchi sia in caso di vittoria che in caso di sconfitte è rimasto abbastanza lineare però te ne accorgi Francesco dall'umore anche dopo Juvempoli cioè lui quando la partita va come l'aveva preparata come piacerebbe il risultato vincente fa la battuta ride scherza quando invece la partita non finisce come diciamo nel suo programma è molto più diciamo molto neutro nelle dichiarazioni sai qual è il problema che lui parla dell'Empoli perché dopo stasera è lì che gli rimane la partita con l'Empoli è il problema vero è lì c'è la natura del problema di oggi non è tanto la sconfitta con l'Inter a San Siro che ci sta con un autocoll di gatti il problema è che tu con l'Empoli in casa non puoi nonostante lo svantaggio numerico va bene tutto quello che vogliamo ma lui va in vantaggio e lì dovevi gestire in un altro modo e quindi quello purtroppo rimane un po' lì poi ripeto a me l'atteggiamento è interessato molto di più che altro e devo dire una cosa al contrario di quello che si dice sul calcio italiano spesso e volentieri questa è una partita che comunque sia all'estero è un ottimo spot per il calcio italiano perché l'intensità di Inter e Juve di stasera è stata altissima e poi posso aggiungere una cosa a questa cosa che stai dicendo c'è anche due che si sono affrontate a viso aperto sì di più nel secondo tempo di più nel secondo tempo e questa è una cosa un po' inusuale soprattutto per le due squadre Inter e Juve che comunque quest'anno l'Inter molto meno la Juve proprio ha fatto di questo elemento proprio il suo punto di forza fino adesso però sono due squadre che sanno chiudersi per un 60-70 minuti della partita magari si chiudono invece stasera dall'inizio della partita hanno giocato a viso aperto l'Inter ha avuto un approccio differente è partita con più cattività e più rabbia perché giocava in casa e me lo aspettavo anch'io subito sì secondo tempo è stata una partita devo dire la verità dopo il vantaggio non pensavo che la Juve per come ha giocato quest'anno avesse il carattere per andare a prendere l'Inter nella metà campo perdendo la partita dove ti puoi sbilanciare infatti l'Inter andava in contropiede il fatto che il risultato non cambi più è un peccato da una parte perché le occasioni sono fioccate sia a destra che a sinistra sì poteva finire 4-3 no ma il secondo tempo è andato molto più cioè le occasioni da rete erano più reali nel secondo tempo però ripeto a me questo piace perché se all'estero devono ancora parlare di calcio italiano dopo partita del genere si capisce intanto perché le prime due squadre sono lì e seconda cosa perché l'Inter magari ha fatto una finale di Champions l'anno scorso perché ha una qualità altissima e Alleghe lo sottolinea però oggi tu tu io ho ancora più la convinzione che questa squadra l'anno prossimo vada puntellata e lavorata soprattutto in mezzo al campo perché la Juventus manca lì io Simone non sono d'accordo quando dici che è stata una partita disabella aggiungo solo alle parole di Francesco io ribadisco il fatto che tu hai ragione che è mancata lì ma perché perché avevamo dei giocatori che non erano in condizione uno su tutti che era Biocche per il centrocampo della Juve è il più importante Simone Inzaghi in diretta da San Siro una serata così quasi perfetta direi qual è l'aspetto che ti soddisfa di più per come ha giocato la squadra la squadra è stata bravissima abbiamo giocato benissimo tecnicamente sempre concentrati abbiamo concesso praticamente una ripartenza in 95 minuti che è una squadra come la Juventus quindi benissimo è una tappa importante assolutamente non decisiva come avevo detto in conferenza però chiaramente è una serata ottima con i nostri tifosi che da da quando siamo arrivati allo stadio dalle 19.30 ci hanno aiutato tantissimo perché ci hanno trascinato e ci hanno aiutato Cassetta dello Sport prego ciao Simone complimenti per la partita per la vittoria quanto sei arrabbiato per quel giallo te la sei presa molto anche per la squalifica poi a Roma tantissimo tantissimo perché tante volte era meritato stasera insomma un derby d'Italia una partita così sentita i giocatori i giocatori in campo sono stati correttissimi noi da fuori abbiamo sempre cercato di lasciare lavorare bene tutti purtroppo sono uscito sono uscito dall'aria tecnica e è una munizione pesante che mi dispiace chiaramente meglio me che uno dei miei dei miei giocatori però pensare di non essere sabato lì in panchina con la squadra è chiaramente una piccola amarezza di stasera però è già capitato in passato ho uno staff meraviglioso che può fare benissimo a meno di me però chiaramente una partita importante come sabato mi sarebbe piaciuta viverla lì con i miei ragazzi area il microfono il microfono senti il fatto di aver subito preso alla gola la Juve dal primo minuto è per rispetto della Juve stessa quindi volevate cercare di vincere assolutamente questa sera o perché vi viene naturale perché proprio la superiorità del gioco quando entrano le giocate che porta a partita come questa ma noi volevamo fare chiaramente una partita aggressiva davanti ai nostri tifosi una partita che era importantissima i ragazzi insomma hanno fatto una grande gara hanno usato testa e cuore quella che avevo chiesto in più avevo chiesto di coprire bene il campo di essere sempre concentrati e la partita è rimasta aperta perché abbiamo trovato un portiere che ha fatto delle parate incredibili se no insomma stasera per quanto riguarda la partita non c'è stata storia calciomercato buonasera ciao buonasera si può dire che la lepre sta seminando il cacciatore no si può dire che è stata una partita meritata vinta ma è una tappa del nostro percorso bisogna fare i complimenti alla Juventus al Milan perché stanno tenendo testa un Inter che ha vinto 18 partite su 22 è un un cammino incredibile nonostante quello abbiamo la Juve a 4 punti il Milan a 8 quindi complimenti anche a loro perché in altri campionati in altri momenti con 18 vittorie sulle prime 22 di campionato il vantaggio era era almeno 10 punti così non è ma noi dobbiamo guardare il nostro percorso che sarà lungo con delle insidie però siamo fiduciosi perché stiamo lavorando bene Sky non vedo dove sia Sky Sky Buonasera Ciao io volevo commentare la prestazione di Cialanoglu perché lui Pavardma in particolare Cialanoglu con alcuni lanci alcune giocate ha davvero fatto delle cose importanti è secondo lei il migliore o comunque uno dei migliori registi d'Europa grazie assolutamente sì è stato bravissimo però insomma dopo una partita così sarebbe giusto elencarli tutti perché dagli attaccanti i difensori hanno fatto una grandissima prova chi è entrato dopo perché insomma Danfris e Carlos entrare in una partita così sul 1-0 non è semplice Arnautovic Ciklasen e lo stesso De Vrij ci hanno dato una grandissima mano l'ultima FCM3108 ciao mister buonasera complimenti volevo chiederle rapidamente come sta Federico Di Marco e poi di spendere possibilmente due parole su Pavard un altro dei protagonisti di questa sera sta dimostrando di essere veramente un valore aggiunto nonostante si dicesse potesse essere un difensore normale per qualcuno è un campione anche stasera un'ottima partita l'ha dimostrato fatto una grande gara Pavard giocatore internazionale insomma che non aveva bisogno di presentazioni è stata bravissima la società a capire nel momento che poteva prenderlo abbiamo preso un grandissimo un grandissimo giocatore che si è integrato subito alla fortuna di ha avuto la fortuna di trovare un gruppo spettacolare di ragazzi che i nuovi arrivati che non sono pochi perché penso che siano 12-13 quest'anno su 23-24 sono tanti ma nonostante questo tutti i ragazzi si sono integrati nel migliore dei modi per quanto riguarda Di Marco penso che sia solo un crampo ha sentito quindi niente di preoccupante Fratesi non era non era disponibile ieri nella rifinitura ha avuto un indolenzimento stamattina il ragazzo ha fatto ha fatto con noi la rifinitura però insomma abbiamo parlato con i medici con lui stesso non era il caso di rischiarlo speriamo che possa essere disponibile per sabato con la Roma grazie buonasera questa indicazione è stata importante ci ha spiegato perché è entrato classe nei non fratesi un lieve problema fisico speranza quello di recuperarlo per la Roma significa che proprio una cosa leggera 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 non è se addirittura in dubbio da qui a sabato venturo insomma qualcosa vorrà dire Inzaghi che anche lui predica estremamente calma tranquillità insomma diciamo tutto abbastanza normale però era importante ascoltare le voci che arrivavano da San Siro Ezio ma una curiosità perché prima Francesco ed io abbiamo così fatto notare che secondo noi fortunatamente per noi questa sera Lautaro è stato insufficiente Michele tu l'hai difeso a spada tratta perché tutti quanti cerchiamo di difendere i nostri giocatori non per quello ogni tanto bisogna essere un po' obiettivi ho visto tutti i colleghi adesso che ho visto finora tu ti sei solo tu non interrompi nessuno non è vero se mi fai dire qualcosa che non è vero ti interrompe poi hai detto scommettiamo che domani non ci sarà nessuna insufficienza scommettiamo che domani non ci sarà io ho il primo sito che è Eurosport quindi non è Juventus Club a Lautaro dice non trovo Varchi all'inizio controllato da Gatti di Aperme il peggiore dell'Inter ma in una serata così può gioire nella vittoria della squadra se vuoi ti faccio vedere tutti i sei che ho trovato ma il punto non è quello perché uno può dire le cose in tanti modi se uno dice io dico quello che vedo mentre Michele non dice quello che vede facendo credere che uno vuole nascondere la realtà io mi ribello scusa io non vado mai ad attaccare gli altri con le relazioni se le dici le belle Lautaro prende parecchi sei anche da altri colleghi facciamo così domani vediamo ma non mi sembra una cosa così importante posso dirlo state un po' accappigliando perché vi va di accappigliarvi su una cosa che si dice se uno dice scommetto che domani scommettiamo che domani senza che non vi chiedere no fate un po' come vi pare cioè se deve essere il pretesto per per pie se uno vuole il pretesto per forza del miti non mi sembra proprio il tema della serata ecco la prestazione di Lautaro però dico se ci sono diversi sei peraltro nessuno ha ancora sottolineato che clamorosamente un interviewe non ha episodi da motivo uno ci sarebbe uno ci sarebbe Danilo su Turamma gli prende proprio quello che quando prende tutto in aria però la palla non la sfiora proprio gli prende proprio la palla ce la vedremo ha ragione Francesco chiudendo non discutiamo questo però visto che prima ci è stato detto scommettiamo che domani non c'è l'abbiamo trovata su è una curiosità ma così dai ha ragione Francesco non è questo il tema della serata avete vinto la partita 1-0 autoboli se ci sono diversi colleghi che danno sei finora quelli che ho visto finora significa che io sono quello che dice quello che non vede significa semplicemente che è una prestazione che va tra 5 mesi e 6 esatto non c'è bisogno di inventarsi di accusare uno quando non c'è motivo di accusare uno? sì di dire quello che non vede ancora questa cosa ma tu vai avanti davvero ma tu vai avanti su seo ancora questa cosa? sempre che devi andare sul personale è proprio un vizio che hai io vado sul personale guarda che stanno tu sul personale nessuno va sul personale perché dovreste sapere che le regole della casa non vi consentirebbero di andare sul personale esatto ma nessuno va sul personale io in maniera per ora per ora bonari e col sorriso vi invito a cambiare argomenti e toni se vi va è così se non vi va è ancora così Simone prego posso chiedo il permesso di andare davanti al mio idolo chi è? posso? chi è? Tiziano? vabbè però poi se lui si alza no no posso? ah no perché stai imitando Totò è vero è uguale si è sputato proprio siccome dietro compare la figura di Totò eh nell'ogiettatore nell'ogiettatore perché Tiziano aveva anche quel tipo di ruolo stasera volendo che poi non ti è capito per chi eh non lo so non ce l'ha spiegato non ce l'ha detto non ce l'ha ancora detto se è contento non è contento che abbia vinto l'Inter che abbia fermato la Juve se sperava mi sembra di essere stato chiaro ho detto semplicemente che mi sono reso conto che il Milan questo Milan pur avendo secondo attacco del campionato ha una difesa vulnerabile perché le due squadre indipendentemente dal risultato hanno dimostrato che hanno un reparto arretrato molto solido ma tu vedi mentre parli cosa sta facendo lui alle tue spalle eh lo vedi cosa sta facendo le tue spalle mentre parli eh il Romagna si dice sa vu pretendo Cosa c'entra Cosa c'entra Cosa c'entra Niente volevo fare visto che volevo fare ho messo la parola di un giocatore dell'Inter nella tarantella tutto lì va bene vuoi anche la pubblicità in musica perché suono come a parte che ti vedo col fiatone ti vedo sei poco allenato hai fatto una robettina qua davanti hai fatto una mezza corsetta e c'è il fiatone ha dato tutto non ho il fiatone assolutamente no no vedi che sto parlando senza fiatone te la senti di fare 50 flessioni te la senti di fare 50 ne faccio anche 100 ne fai anche 100 150 su questo avrei qualche dubbio va bene ragazzi due minuti lì nella regia e poi rientro commentiamo ancora un po' in terriuve e tiriamo le somme di questa intensa giornata di campionato che non è ancora finita perché domani c'è Roma Cagliari allora anche in classifica la Roma potrebbe fare un altro passo avanti in attesa proprio di Roma Inter di sabato alle 18 con Simone Inzaghi che sarà squalificato quindi non sarà in panchina poi capire quanto incide quanto non incide la presenza se ovviamente lui dice io ho piena fiducia dei miei collaboratori e ci mancherebbe altro però insomma è un Roma Inter con De Rossi al primo big match sulla panchina della Roma insomma ci sono tanti 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 motivi di interesse cos'altro possiamo aggiungere di questa giornata di campionato perché classifica alla mano insomma Milan e Atalanta hanno fatto un bel passo in avanti in classifica il Milan perché ha vinto col Frosinone di fatto volente o nolente si porta a soli 4 punti dalla Juventus settimana prossima c'è Milan-Napoli domenica sera a San Siro turno di nuovo potenzialmente favorevole alla Juve perché c'è Milan-Napoli c'è Roma-Inter e c'è Juventus Udinese giusto? giusto quindi insomma l'occasione io purtroppo prendo l'occasione per ricordare che non ci sarò in quella settimana intera quindi mi godrò le partite da fuori magari la Roma con Di Bale e Lukaku ci regalerà delle sorprese e chi può dire e poi dobbiamo tremare perché ha vinto il Milan ha vinto l'Atalanta ha vinto il Bologna se noi dobbiamo guardare i punti si sono ridotti però c'è anche da dire che mentre il Milan sembra insomma diciamo puntellare mi sono perso mentre il Milan sembra puntellarsi il terzo posto dietro l'Atalanta insomma con i tre punti che ha fatto si porta saldamente al quarto per ora non possiamo sapere se il quinto vale la Champions ma tanto questo fino ad aprile mettiamoci il cuore in pace perché non lo sapremo perché bisogna capire un po' come andranno avanti le coppe eccetera 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 però se guarda la classifica persino la Lazio che è a 34 sono tutte deli è a 5 punti al quarto posto la Lazio la Lazio tanto bistrattata deve recuperare che è arrivato malissimo con l'Atalanta e con tutti i punti che ci sono ancora a disposizione hai ragione tu che può assolutamente poi ci sono partite da recuperare Lazio compresa perché Lazio Fiorentina Inter e Napoli erano in Arabia per la Supercoppa per cui insomma dietro c'è un bel pacchetto di mischi in corsa per la Champions io credo che l'Atalanta sia la squadra che sta meglio oggi in questo momento sì in questo momento sì è anche una rosa completa forte in tutti i reparti però anche altre due manifestazioni che Gasperini dice sempre che vuole coronare il suo percorso 8 anni con un trofeo quindi bisogna vedere anche lì quanto andrà in fondo mentre per squadre secondo me come Napoli e Roma la Champions non dico che è una questione di video di morte perché il Napoli comunque il bilancio ce l'ha posto però se dovessero essere nella condizione di scegliere il quarto posto è importantissimo per loro quindi io metto ancora il Napoli e la Roma in corsissima e l'Atalanta come diciamo il terzo incomodo in corsissima il Milan perché se tu togli la partita il pareggio con il Bologna dice solo per il quarto ah per il quarto invece sul quinto sono scettico Francesco perché vediamo come vanno gli ottavi di Champions però le italiane secondo me sono tutte sfavorite soprattutto la Lazio con il Bayern il Napoli con il Barcellona sarà difficile l'Inter con l'Atletico non è per niente scontata non è scontata stasera è pareggiato di nuovo con Real ma l'Inter è favorita secondo me avete tutto l'interesse a tifare Inter però nel contesto del quinto posto valgono anche le altre anche le altre dove l'Atalanta il Milan comunque Atalanta Milana Fiorentina sono tutte ancora in corso l'Inghilterra e la Spagna sono molto perché loro hanno che ne so Liverpool Aston Villa le inglesi nelle coppe hanno il City Champions e poi c'è la Spagna la Germania sono queste quattro nazioni che si giocano i primi due posti però questa storia che la Juve ha meno partite adesso come adesso ne ha di meno se l'Inter passa con l'Atletico finora ne ha avute sei in meno perché altrimenti la Juve e la Coppa Italia ne ha avute sei in meno finora e adesso a febbraio-marzo ne ha altre tre in meno continuate a raccontarci questa storia la Juve gioca una volta alla settimana la Juve da adesso in avanti giocando la semifinale di Coppa Italia ha praticamente lo stesso numero di partite ma no a febbraio-marzo ne ha avanti ma poi c'è ecco l'ho detto se l'Inter passa tutto ma poi c'è un altro fattore che noi dobbiamo tenere conto alla luce di quelle che sono state le esperienze fino ad oggi del campionato intendo dire ma ragazzi la Juventus che pareggia con l'Empoli il Milan che pareggia con la Salernitana e questi risultati non vi fanno pensare che nulla è scontato nel nostro campionato certo quindi di conseguenza anche lo stesso il Sassuolo che batte sia l'Inter che la Juventus eccetera per cui nulla è scontato anche perché noi partiamo dal risupposto parliamo delle prime tre e compagnia bene però attenzione che il risultato di questo campionato potrebbe essere fortemente condizionato anche da certe squadre che in questo momento non hanno delle grandi considerazioni aggiungo una cosa ad oggi l'Udinese che vince Milano con il Milan sì non solo ad oggi la matematica non preclude per quanto non sia ovviamente la favorita delle tre tre perché l'Inter è la prima in assoluto la Juventus sta sorprendendo tutti a prescindere perché comunque ha fatto 53 punti il Milan comunque matematicamente è ancora in lotta per tutto ok dietro il Milan dall'Atalanta alla Lazio Bologna compresa c'è una carovana di squadre in 5 punti che potrebbe far sì che la lotta la Champions che quest'anno potrebbe comprendere anche per assurdo la quinta ricordiamolo cioè diventerà una roba secondo me senza precedenti perché ad oggi se io dovessi escludere qualcuno per certo da quella lista lì ad oggi per come vedo la Fiorentina dico la Fiorentina ma in Bologna probabilmente calerà l'Atalanta non l'escludo la Roma potrebbe essere ripresa con De Rossi il Napoli comunque è un organico importantissimo sono sempre campioni d'Italia potrebbero avere un'impernata d'orgoglio la Lazio è una squadra che l'anno scorso ha sorpreso tutti e non può essere così brutta come vista oggi è un campionato molto interessante questo sì sì beh sicuramente si è in testa in testa forse per i primi due posti il Milan è in quella posizione un po' di limbo ma neanche tanto fra perché però non lo so neanche tanto perché ti ripeto guarda che già settimana prossima l'Inter potrebbe per assurdo andare addirittura già a più sette se la Juve sbagliasse con l'Udinese ma se l'Inter sbagliasse con la Roma con un Dybala e un Lukaku che aspettano per la partita andata obrobriosa che ha fatto la Roma a San Siro perché non hanno toccato palla non l'ha vista neanche di striscio e con un allenatore nuovo potrebbe essere che il campionato magari settimana prossima presenti le sorprese ancora una volta con Milan che prende ancora magari punti sulla prima Francesco se noi in casa con l'Udinese noi ripetiamo noi abbiamo perso in casa 1-0 ma tutto quello che vuoi abbiamo pareggiato 2-2 con la Salernitana abbiamo vinto 3-2 soffrendo come dei disperati sul Frosinone quindi almeno a mio modo di vedere nulla è scontato sai cosa c'è? che l'Inter per perdere una partita in casa o fuori deve succedere qualcosa di molto più eclatante rispetto a quello che può succedere al Milan la Juventus perde la seconda partita stagionale e sfido chiunque dopo la stagione dell'anno scorso a dire chi avrebbe firmato per una nobile di genere a meno 4 all'Inter con una seconda partita personale firmo quando vogliamo quanto vogliamo è anche vero che nel girone di ritorno sta avendo qualche scricchiolio che non ha avuto nel girone d'andata la Juventus chi? adesso la Juventus ma tu il girone d'andata lo ricordi? no lasciamo stare l'andato-ritorno te lo dico perché dopo Bologna e Sassuolo altro che scricchio lì lì si parlava di fine stagione già se c'erano già i nuovi fantasmi l'anno precedente ho sbagliato a parlare volevo dire nelle ultime partite si incomincia a vedere qualche inclinamento hai sbagliato con l'Inter hai sbagliato con l'Empoli non è l'Inter il problema è chiaro che se tu guardi dici l'Inter ha fatto un punto la Juve ha fatto un punto in due partite però con l'Empoli hai giocato 75 minuti 10 contro 11 però è lì che sbagli è lì il vero errore perché per Tiziano questa roba non incide non è un problema però per Tiziano non è un problema il fatto che abbiate giocato secondo Tiziano mi pare di capire nonostante l'inferiorità numerica la Juve doveva vincere con l'Empoli è vero Tiziano l'aveva detto assolutamente l'aveva detto anche la Juve che abbiamo visto oggi ma stai dicendo il controllo tu stai dicendo da un'ora che il campionato può essere sorprendente perché ci sono delle cose che non possiamo aspettarci come l'Udinese come il Bologna e poi la Juve con l'Empoli deve vincere forse in 10 in casa no deve vincere è chiaro sulla carta deve vincere poi non vince perché l'Empoli gioca bene e perché la Juventus non gioca bene ma sulla carta tutti davano la Juve per disfatta ma non lo so sei sempre ma stia a contrari quando ti toccano la Juve ma tu l'hai detto quando ti toccano la Juventus sei ma stia a contrari ma se sono il primo che vado al Leng dopo che dice che la Juve fa schifo va bene così io vado a trovare al Leng dopo che dice che la Juve è impresentabile a Bergamo che facciamo ridere tu lo fai questo non mi risulta no neanche a me risulta a me risulta a me risulta anche a me risulta è l'evidenza è l'evidenza perché non è vero è l'evidenza capisci? è l'evidenza no però io ero qua in trasmissione quando c'era Juve Empoli e mi ricordo che Tiziano diceva che secondo lui la Juve avrebbe dovuto doveva fare di più anche in 10 lo diceva anche qua ma anche perché eravamo in vantaggio contrario di quello che aveva letto fino adesso eravamo in 10 ma vincevamo a 0 lì qualche responsabilità responsabilità di Allegri io la metterei in partenza tu dici anche in partenza sull'1-0 perché per esempio Massimo Brambatti ci diceva perché per dire che Alexandro è un Rugani è un accordissimo ma su Milik ma anche su Milik ma no dai con questo con l'Empoli con l'Empoli se non fai giocare Milik non gioca più però lì su il Diz su il Diz con l'Empoli non ce l'hanno raccontata giusta perché secondo me è successo qualcosa in settimana tra quello che dice Cesni quello che lascia capire non capire Allegri il ragazzo i piedi per terra cioè da l'impressione che si è successo qualcosa e per dargli una mezza lezione lo abbia messo in panchina è ragione perché altrimenti in quel momento non lasci fuori nonostante quello però magari gli fai il cazziatone davanti al resto della squadra ma non te ne privi se sta così bene anche perché aveva giocato tant'è vero che lo fai giocare titolare a San Siro l'Inter esatto quindi è successo qualcosa perché non puoi lasciare fuori un ragazzo che aveva dimostrato quella condizione però sai che l'Empoli ha la peggior media realizzativa della Serie A in Europa dei campionati in Europa come tiri in porta tra tiri fatti e gol fatti fai fare un gol a un ragazzo per carità valdanzi interessantissimo ma sul suo piede debole sul 1-0 dove tu sei abituato a difendere per la partita di gestire in modo diverso e io il rimpianto non abbiamo preso Francesco non abbiamo preso solo quel tiro contro l'Empoli abbiamo avuto dei momenti di sbagliamento hai sbagliato anche i gol anche lì dopodiché ragazzi sfortuna vuole che sia proprio Milica farsi buttare fuori dopo un quarto d'ora certo c'è anche quello nella casualità se dopo un quarto d'ora Milica fa gol che bravo a lei che mi ha messo il problema Francesco io l'avevo già detto ci siamo illusi dopo i tre gol con il Frosinone in Coppa Italia che Milica fosse un bomber non è un bomber tra l'essere un bomber e farsi buttare fuori dopo un quarto d'ora insomma lo so però non l'avrei fatto partire è acqua passata per forza di scorsa si dice che la sfortuna dell'Inter rispetto al Napoli dell'anno scorso sia la Juventus che sta facendo tanti punti ma anche il contrario c'è la sfortuna della Juventus che ha comunque una difesa da scudetto ad oggi 14 gol subiti però si ritrova di cui 4 col Sassuolo ma guarda che però l'Inter 10 guarda che paradossalmente però Michele una Juve che corre così tanto aiuta voi perché quando la Juve se non hai più cali se non hai più cali se hai alle spalle uno che continua a correre tu non puoi mollare la concentrazione infatti si viste come partita l'Inter però devi stare sempre lì perché ripeto io non è scaramanzia quando dico il campionato non è finito perché se no la storia non ci insegna niente cioè allora mettiamo che l'Inter fa una battaglia con l'Atletico Madrid e si qualifica e ad aprile hai in una settimana una battaglia con Real Madrid e viene pure eliminata come fate a pensare che in quelle tre domeniche l'Inter passeggi in campionato e a partite a un derby a un derby no ma io dico a questa cosa che oggi è finito il campionato secondo me il campionato non è assolutamente finito perché anzi la Juve oggi ha avuto una conferma che ha difficoltà perché quel centrocampo non è il centrocampo dell'Inter ma i gol non li prende perché anche oggi ha confermato solidità dietro e davanti il gol lo fa il gol prima o poi esce sai qual è su quel discorso di oggi finale? ho capito ma oggi contro una difesa che è stata veramente alla fine sono gatti amari no